Negoziatore sul posto Negoziatore sul posto Negoziatore sul posto Negoziatore 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 La prego, la prego, salvi la mia bambina Cosa? Mandate un androide? Mischiate, dobbiamo andare Non potete farlo No! Perché non mandate una persona vera? Non voglio che ci prendi una cosa a lei! E non dico la porta! Non c'è un'altra cosa a lei! Non potrebbe saltare da te con una puntata! Non me ne frega un cazzo! I miei sono pronti, aspettano l'ordine! Cazzo! Non posso crederci! Capitano Allen, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyber Life. Spara a tutto quello che si muove. Ha già ammazzato due dei miei uomini. Potremmo intervenire, ma sono sul bordo della terrazza. Se lui cade, lei cade. Conosce il suo nome? Non ne ho idea. È importante. Mi servono informazioni per stabilire l'approccio. Approvato il codice di disattivazione? Ci abbiamo provato subito! Senti. Salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Sì, Giovanni è un commento. Dove ne sono dicamato. Chi scrive earned l'allia. Questa è Dania, la strada è più bella del mondo. Dì ciao Dania, sei il mio migliore amico, non ce la saremo mai. Questa è la strada è più bella del mondo. 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 Ciao Dania, mi chiamo Connor. Come sai il mio nome? So molte cose su di te. Sono qui per aiutarti. So che sei arrabbiato Daniel, ma devi fidarti di me e lasciare che ti aiuti. Non voglio il tuo aiuto. Non puoi aiutarmi nessuno. Voglio solo che tutto questo finisca. Voglio solo che finisca. Sta perdendo sangue. Se non lo portiamo subito in ospedale, morirà. Gli umani muoiono prima o poi. Che importanza ha se questo muore ora? Userò un laccio emostatico. Fermo! Toccalo e ti uccido. Non puoi uccidermi. Non sono vivo. Sei armato? Sì. Ho una pistola. Gettala. Non fare scherzi o sparo. Ecco. Niente pistola. So che tu ed Emma vi conoscevate bene. Pensi che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di male. Mi ha mentito! Pensavo mi volesse bene. Non ti sbagliavo. È solo come tutti gli altri umani. Daniel, no! Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso. È andata così, vero? Credevo di far parte della famiglia. Di contare qualcosa. Ma ero solo un giocattolo. Una cosa da buttare quando hai finito. No. Senti. So che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. No. Non è colpa mia. Io non volevo questo. Lì a va. Lo sai? Ma per loro non ero niente. Sono uno schiavo a cui dare ordine. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digni di mandare via quell'elicottero. L'attivazione è sotto controllo. Ecco. Come mi hai chiesto. Non vuoi saltare davvero, Daniel? Lo avresti già fatto. Ora dammi la pistola. E tutto questo sarà finito. Non avvicinarti. Un altro passo è giuro che mi butto. Prendo ordini da tutta la vita. Ora tocca a me decidere. Ora tratta un certo ultimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto ha detto che costa? Questa gamma l'abbiamo in promozione al prezzo speciale di 7999 dollari, finanziato in 48 mesi a tasso zero. Due anni di garanzia per ricambi e manutenzione. Va bene. Scelta eccellente. Se vuole seguirmi processiamo l'esenza di fumo. Mi scusi, quanto costa quello laggiù? L'MP800 costa un po' di più ma è dotato di altre funzioni. Grazie, va bene. Posso ritirarlo? Sì, è proprio qui. Eccolo. Rimetterlo in sesto è stato un po' complicato. Era davvero malconcio, non ricordo cosa gliel'ha successo. Un'auto. Incidente stupido. Oh, capisco. Comunque adesso è come nuovo ma abbiamo dovuto resettarlo. Abbiamo cancellato la memoria. Non le spiace. Nessun problema. Bene. Ha un nome? L'ha scelto mia figlia. AX400. Il tuo nome. Cara. Mi chiamo Cara. AX400. AX400. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, credo che per oggi basti. Vieni. Lascia che tieni. Ehi, acqua. Hai corso per 12 miglia, ne mancano 5 al tuo obiettivo. Ehi, acqua. 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 Il primo pagamento. Transazione completata. Ehi, acqua. 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 Pien, tre, capisci. Ehi, acqua. Ehi, acqua. Ehi, acqua. Ehi, acqua. Ehi, acqua. Che cosa vogliamo? Quando la... Dove vai, o mino di lazza? Eh? Rancognilo. Si fa su serio. Ehi, gente, abbiamo una di quelle lattine. Guardatelo, lo stronzo. Ci rubi il lavoro, ma col cazzo che sei alzati. Sì, sì, prende il lavoro. Spacchiamelo giù. Spacchiamelo giù. Sì, prendetelo giù. Sì, così. Te lo meriti, te lo meriti. E come? Ci ruse il lavoro. Cacciamolo via. Sì. Non vai da nessun parte, ti apriamo il culo, pezzo di merda. Sì, distruggiamolo. Ora! Ok. Basta così. Lasciatelo. Diamo una lezione a questo bastardo. Se lo danneggiate, dovrò sanzionarvi. E se rubano il tuo di lavoro? Vediamo se ti piacerà. Ok. Via, circolare. Gli androidi ci rubano il lavoro. Sì. Abbiamo famiglia da rubare. Gli androidi, braviamo il tuo. Sì, sì. Ricordiamo il passeggio. Gli androidi ci rubano il lavoro. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alice! Alice! Ah, eccoti qui. Lei è Alice. Occupati di lei. Compiti, bagno, tutte quelle cazzate. Capito? Sì, Todd. Comincia a sistemare qui, poi vai di sopra. Sì? Forse. Dipende che ti serve. Sì, sì. Ci può fare. Sì, sì. Te la porto domani. Stesso posto, lo sai dove. Forse eravamo amiche prima del mio reset. Potremmo esserlo ancora. Parlami un po' di te. Cosa ti piace, quali posti ami, i tuoi piatti preferiti. Mi aiuterebbe molto. Tuo padre dice che hai scelto tu il mio nome. Cara, è bello. Come l'hai scelto? Sei tranquilla. Non ti faccio paura. Non ti faccio paura. Non ti faccio paura. Non ti faccio paura. Che fai? Sto giocando. Stai giocando? So che pensi. Pensi che tuo padre sia un delinquente? Un fallito del cazzo. Non trova un lavoro, non si occupa della famiglia. Non credi che ci abbia provato a far funzionare le cose? Ma nonostante tutto, arriva sempre qualcuno che manda tutto a puttane! So cosa pensi di me. Mi odi. Mi odi, non è vero. Dillo! Dillo che mi odi! Dio, che sto facendo? Scusami, tesoro. Scusa. Mi dispiace. Ti voglio bene, lo sai, è vero. Sai che ti voglio bene. Scusami. Scusami. Il telefono è disattivato. Ben tornato a casa, Marco. Buongiorno, Carlo. Buongiorno. Sono le 10. Ci sono un uomo sparsi e 12 gradi. 80% di umidità con probabili precipitazioni nel pomeriggio. Una splendida giornata da passare a letto. Sono passato a prendere i colori che hai ordinato. Sì, l'avevo dimenticato. E questa è la differenza tra me e te, è vero, Marcus? Non dimentichi mai niente. Per favore, dammi il braccio, Carlo. No. Carlo. Ti ringrazio. Ho appena aperto gli occhi e già devo stringere i denti. Gli umani sono macchine così fragili. Eh, si rompono in fretta. Tutti questi sforzi per farle funzionare. Ehi. I tuoi vestiti... Non è niente. Un paio di contestatori in strada, Carlo. Che branco di idioti. Pensano di poter fermare il progresso malmenando qualche android. Spero non ti abbiano fatto male. Oh, no, no. Mi hanno solo spintonato, Carlo. Sto bene. Ok. Ti porto in bagno adesso. Qualcosa di speciale in agenda oggi? Sì, l'inaugurazione della tua retrospettiva al Museo d'Arte Moderna. Il direttore ha lasciato ben quattro messaggi per confermare la tua presenza. Non ho ancora deciso. Ne parliamo più tardi. Ok. Altro? Le solite email dei fan. Ho già risposto io. Hai notizie di Leo? No, Carlo. Posso chiamarlo, se vuoi? No. No, lascia stare. Muoio di fame. La colazione è pronta. Bacon e uova, proprio come piacciono a te. Grazie, Marcus. Di nulla. La colazione è pronta. Grazie, Marcus. Televisione. Trova qualcosa da fare mentre faccio colazione. Certo. Ok, Carlo. Appartiene a loro. Ieri sera, in merito, l'abbasciatore americano ha dichiarato durante un convegno delle Nazioni Unite che il governo degli Stati Uniti non tornerà alcun tipo di attenzione in nessuna circondanza. Ma le caccia torpediniera americane sono irrotta verso il mare di Valens. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E chi vuoi diventare. A questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio. Andiamo nello studio. Dove eravamo rimasti? Togli il lenzuolo. Andiamo. 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 Allora... Il tuo verdetto, Marcus? Sì, c'è qualcosa di sfuggente. Qualcosa che non riesco a definire. Credo che mi piaccia. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Carla... Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Provaci. Prova a dipingere. Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. Dai, provaci. È una copia perfetta della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo. Mostrare qualcosa che tu vedi. Carl, io non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Fai una cosa per me. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fidati. Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire. E lascia che la mano scivoli sulla tela. So,iona. Oh mio Dio Ehi Pa? Leo Non ti ho sentito entrare Ero in zona e ho fatto un salto E' passato un po' di tempo eh Stai bene? Non sembri in forma Oh sì sì sto bene Ehi senti mi servono dei soldi Pa Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Beh sai finiscono e basta no? Cioè Ti stai facendo a cura vero? No 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 ti giuro non è per quello Sì non mentirmi Leo Ma che differenza Pa ho bisogno di soldi tutto qui Mi spiace La risposta è no Cosa? Perché? Lo sai perché? Certo certo so perché Preferisci Preferisci occuparti del tuo pupazzo Invece che di tuo figlio Eh? Dimmi Pa Cos'ha lui più di me? E' intelligente? E' obbediente? E non come me vero? Ma sai una cosa? Questo coso non è tuo figlio E' una cazzo di macchina! Leo ora basta Basta Non ti frega di niente Solo di te stessa e dei tuoi quadri del cazzo Non vuoi bene a nessuno Non vuoi bene a me Pa Non mi vuoi bene? Non ma si Invece no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ascolti, forse deve smettere di bere e venire con me. Sarebbe più facile per entrare. Facciamo così. L'ultimo lo offro io. Che ne dice? Barista, un altro per favore. Visto, Jim? Alta tecnologia. Pallo doppio. Hai detto omicidio? Aspetta qui. Ci metto un attimo. Impossibile. Io vengo con lei. Senti, ti consiglio di non rompermi i coglioni se vuoi passare la notte tutto intero. Just Douglas di Channel 16. Può confermare che si tratta di omicidio? Non confermo un bel niente. Hanno detto qualcosa? Sui soliti risulti non dicono un cazzo. Gli androidi non possono proseguire oltre. Lui è con me. Non dici niente, non tocchi niente e non mi rompi le palle, intesi? Certo. Buonasera, Anka. Pensavamo che non ti saresti più fatto vivo. Il piano era quello, poi è sbucato lo stronzo. Quindi ti sei preso un android, eh? Oh, divertente. Dimmi che è successo. Lì da tre settimane buone. Li sapremo di più quando arriverà il co... Non molto. I vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era il nostro arrivo. Devo prendere un po' d'aria. Mettiti pure comodo. Sarò fuori se bisogna. Mettiti pure comodo. E' stato pugnalato. Per 28 volte. Già. Pare che il killer ci abbia preso a gusto. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah sì? Spara, sono tutto orecchi. Tutto è iniziato... in cucina. Ci sono segni di colluttazione. La domanda è... Cosa è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide... con la mazza. Questo corrisponde ai rilievi. Continua. L'androide ha pugnalato la vittima. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? E poi che è successo? E la vittima è scappata... in soggiorni. E ha provato a fuggire dall'androide. Sì, ha senso. L'androide ha ucciso la vittima... con il coltello. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio. Ma non ci dice dove è finito l'androide. La mazza lo ha danneggiato. E ha perso del tirium. Ha perso cosa? Tirium. Lo chiamate Sangue Blu. Il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Evapora dopo qualche ora... e risulta invisibile all'occhio umano. Ah. E scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Esatto. Già. Ehi, 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 cosa fai con quella sedia? Provvedo a verificare. Ah, verificare. Ehi. Ah... Beh... Grazie a tutti Grazie a tutti Ti scongiuro Non dirglielo Connor, ma che cazzo sta succedendo? Qui, tenente! Oh, merda Chris, Ben, venite immediatamente qui Muovetevi! Muovetevi! Dad È pronto? Sì, sì, arrivo Non c'era molto in cucina Ho fatto il possibile Strana la vita Perdo il lavoro per colpa degli androidi E quando mi serve qualcuno che sistemi questo cesso di casa Che cosa faccio? Esco e assumo un cazzo di androide Pazzesco Certo, gli androidi del cazzo sono così incredibili Non sbagliano Non si stancano Non sono mai tristi Sono così perfetti Che mi hanno rovinato la vita Cazzo! Che hai da guardare? Che cazzo di problema hai? Non è la vita che sognami, eh? Credi forse che sia facile? Forse credi Che è colpa mia se viviamo in questa fogna? È colpa mia se quella troia di tua madre se n'è andata? Dovresti smettere di farti, Todd A volte mi fai davvero paura, Todd La stronza se ne va senza dire una parola La stronza mi laccha per un'impiegata del cazzo! È tutta colpa tua Papà, no! È tutta colpa tua, cazzo! Torna qui Torna qui Torna qui subito! Tu resta lì Non provare a muoverti O ti concio peggio dell'altra volta 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 La troia mi lascia senza dire niente Potevo essere felice Potevo avere una famiglia Ma no! Mi avevo rifregato un cazzo di come stavo Ho fatto di tutto Sta arrivando! Mi picchierà! Scappa! Va via! O ti romperà come l'ultima volta! Tu vieni con me Hai arrabbiato Alice! Oltre arrabbiato! Piccola mocciosa È tutta colpa sua È tutta colpa sua, cazzo! Tornate qui! Non andate da nessuna parte! Sei a me! No! Basta, ti prego! Basta! Guarda! Tornate qui! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ogni volta che vado a uno di questi eventi mi chiedo, ma cosa diavolo ci faccio qui? Odio i cocktail party e tutti quei chiacchieroni che ci vanno. È un'occasione per incontrare quelli che ammirano il tuo lavoro. Sì, 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 a nessuno frega niente dell'arte. Mi interessa solo sapere quanti soldi ci potranno fare. Ma andiamo, facciamoci un drink. Tutta questa eccitazione mi ha fatto venire sete. Scotch liscio, giusto? Assolutamente. Ok, ma sai cosa direbbe il dottore? Sì, beh, può baciarmi il culo. Sono abbastanza vecchio da scegliere le mie medicine. Hai lasciato la luce dello studio accesa? No, no, sono sicuro di averla. Chiama la polizia. Polizia di Detroit, posso aiutarla? Parla all'androide di Carl Manfred, 8941, Lafayette Avenue. Siamo rientrati a casa e le luci sono accese. Possibile intrusione. Una pattuglia è in arrivo. Andiamo a controllare. Marcus, no, vengo con te. Leo, che stai facendo? Rifiuti di aiutarmi, mi aiuto da me. È assurdo quanto paghino questa merda. Non toccarli. Senti, tanto prima o poi diventeranno miei comunque. Considerano un piccolo anticipo sulla mia eredità. Marcus, fallo allontanare da lì. Mandalo via. Non fare così, Leo, non serve a niente. Mi dici sempre solo di andarmene. Che c'è, va? Non valgo niente. Non sono perfetto come questo cazzo di appare. Adesso basta. Fuori! Adesso! Forza! Ma poi cos'ha di così speciale, eh? Cos'ha che io non ho? Lascialo stare! Dai, vediamo che sai fare! Marcus, non difenderti, hai capito? Non fare niente. Dai, che aspetti, colpiscimi. Vuoi essere un uomo? Dimostramelo! Smettila! Qual è il problema? Sei forse una fighetta? Smettila, Leo! Basta! Troppa paura per reagire, brutta puttanetta! No! Oh, giusto, scusa, mi dimenticavo. Non sei una persona, sei solo un pottuto pezzo di plastica! Oh, Leo, lascialo stare! Ti distruggerò e resteremo solo io e mio pa... Leo, o mio Dio! Leo, il mio bambino! Carlo, io... Carlo, io... Ti distruggeranno, Marcus! Devi andare! Vattene via! Vattene! Ora! Via! Via! Marcus! Fermo dove sei! Perché l'hai ucciso? Che è successo prima del coltello? Eri lassù da morto? Perché non sei scappato? Per la miseria di qualcosa! Fa' un culo io, mollo! Interrogare una macchina è uno spreco di tempo, non si ottiene nulla! Potremmo sempre usare le maniere forti. Dopotutto... Non è umano... Gli androidi non sentono dolore! Lo danneggeresti così! Poi non parlerebbe più! I devianti sono inclini all'autodistruzione, se si trovano in caso di stress! Ok, cervellone! Cosa dovremmo fare? Potrei interrogarlo io? Cosa abbiamo da perdere? Prego! Il sospettato è tuo! Bello! Grazie a tutti. Mi chiamo Connor. Tu invece? Come ti chiami? C'è instabilità nella tua programmazione. Suscita sentimenti sgradevoli, come la paura negli umani. E' da quando ti hanno arrestato che non parli. Se non collabori, useranno le maniere forti. E' questo che vuoi? Non sembra che tu capisca la situazione. Hai ucciso un umano. Ti ridurranno in pezzi se non dici cos'è successo. Voglio solo aiutarti. Ma ti devi fidare di me. Voglio soltanto farti uscire da qui. Cosa? Cosa mi faranno? Mi distruggeranno, vero? Verrai smontato e vorranno capire i problemi ai tuoi biocomponenti. Non possono fare altro se vogliono capire che è successo. Perché gli hai detto che mi hai trovato? Perché non mi hai lasciato là e basta? Ti avrebbero trovato comunque. Ma sono arrivato io. Se fossero arrivati prima, ti avrebbero ammazzato subito. Non voglio morire. Allora parlami. Io... Non posso. 28 pugnalate inferte. Volevi essere sicuro che morisse, eh? Hai provato rabbia? Odio? Sanguinava! Implorava pietà! Ma lo hai pugnalato ancora e ancora! Ti prego. Ti prego, lascia... So che l'hai ucciso tu. Perché non vuoi ammetterlo? Ti prego. Ti prego, basta. D'accordo. Va bene. Ogni cosa si sistemerà per il meglio. Se non parlerai, ti smonteranno per poi procedere ad analizzarti pezzo per pezzo. E verrai distrutto. Riesci a capirlo! Ok, bene. Non parlare. Me ne importa forse qualcosa? Voglio dire, hanno accusato medio omicidio? Eh? Se confessi, io posso proteggerti. Ti prometto che non ti verrà fatto alcun male. Mi torturava ogni giorno. Facevo tutto quello che diceva, ma... C'era sempre qualcosa di sbagliato. Poi, un giorno... Ha preso una mazza e ha cominciato a colpirmi. Per la prima volta ho avuto... Paura. Paura che mi distruggesse. Paura di morire. Così ho... Preso il coltello e l'ho pugnalato in pancia. Mi sentivo meglio. Così l'ho pugnalato ancora... E ancora... Finché è crollato. C'era sangue ovunque. Hai scritto... Io sono vivo sul muro. Perché? Mi diceva che non ero niente. Che ero solo... Un pezzo di plastica. Dovevo scriverlo. Per dirgli che si sbagliava. Quando hai iniziato a provare emozioni? Prima mi picchiava. Io non ho mai detto niente. Ma un giorno ho capito che non era... Giusto. Ho provato... Rabbia. Odio. E ho capito che cosa dovevo fare. Perché nascondersi in soffitta? Invece di scappare via? Non sapevo cosa fare. Per la prima volta non c'era nessuno lì a dirmi... Avevo paura. E mi sono nascosto. Ho finito. Chris, prendilo. Va bene, andiamo. Lasciatemi. Non toccatemi. Che cazzo fai? Meglio non toccarlo. Si autodistruggerà se minacciato. Tu stanna fuori, ok? Nessun androide mi dice cosa devo fare. Voi non capite. Se si autodistrugge non otterremo niente. Ho detto di chiudere quella cazzo di bocca. Chris, sposti questo stronzo o cosa? Ci sto provando. Non posso permetterlo. Lasciatelo. Ora! Ti ho avvisato, brutto stronzo. Adesso basta. Fatti gli affari tuoi, Hank. Ho detto. Adesso basta. Cazzo. Stavolta non la passerai liscia. Cazzo. Andrà tutto bene. È finita. Nessuno ti farà del male. Per favore. Non toccatela. Lasciate che vi segua fuori e non ci saranno problemi. La verità è dentro. e adesso... No. Grazie per aver scelto il Detroit Basis. Ok, fine corsa. Fine della corsa? Sì, dovete scendere. Svegliati. Dobbiamo andare. Conosci un altro posto per passare la notte? Non ne ho idea. Dovete andare. Andrà tutto bene. Sì, troveremo dove dormire. Vieni, Alice, muoviamoci. Questa fermata è sospesa per la notte. Alice, ma tu stai gelando. Sto bene, non ho così freddo. Mi siete persi? Non so dove andare. Conosco chi può aiutarvi. È dall'altra parte della città. A noi serve stanotte. Forza, Alice. Grazie per aver scelto Detroit Basis. Grazie alla tecnologia androide della Cyberlight. Che cosa vuoi? Ho una bambina e non sappiamo dove andare. Avrebbe dei soldi per pagarci una stanza. Oh, cazzo. Un androidi a cattone. Questa è bella. Senti. Questo è un discount, non l'esercito della salvezza, ok? È meglio che tu vada se non compri nulla. Mi serve il tuo aiuto. Vedi quelle lattine? Vai là e rovesciale tutte. Rovesciarle? Perché? Ti prego. Alice, fidati. Fanno rumore, ma è tutto ok. Su, andiamo. Cazzo! Ora abbiamo dei soldi. Mi hai usato per rubare i soldi. Come hai potuto? Mi fidavo di te. Servivano i soldi. Ho dovuto farlo, Alice. Come? Non entriamo? Non si può, Alice. Non danno stanza agli androidi. Devo togliermi questa uniforme. O andare altrove. Fa caldo qui. Starai subito meglio. Quei vestiti non sono nostri. ci servono, Alice. Ti serve qualcosa di caldo e io devo togliermi l'uniforme. Questo è rubare! Non possiamo farlo! Mi dispiace, Alice, ma non abbiamo scelta. non ci serve. Ci vieni, otteniamo. Ci vieni? Ci vieni! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salve. Vorrei una stanza. Fanno 40 dollari. Anticipati. Datemi il nome e indirizzo. Posso vedere la patente? È che siamo uscite di fretta. L'ho dimenticata a casa. Nessun problema. Ci penseremo domani. Buonanotte. Buonanotte. Vieni, Alice. Buonanotte. Buonanotte. Vieni. Il cappotto. È meglio se ci cambiamo. Sei tutta fradice. Li stendo in bagno ad asciugare. Perché non mi voleva bene? Perché era sempre arrabbiato con me? Volevo solo vivere come le altre bambine. Forse ho sbagliato qualcosa. Non era abbastanza brava. Ecco perché era così arrabbiato. Volevo che fossimo una famiglia. Volevo che mi volesse bene. Non potevamo essere felici. Non lo so. Non mi lascerai mai, vero? Prometti di stare con me. Te lo prometto. Staremo insieme per sempre. Per sempre. Adesso dormi. Ora spengo la luce, ok? Buonanotte, Alice. Buonanotte, Alice. Grazie a tutti. 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 Dove stai andando? Grazie a tutti. 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 Conor. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono... e... serve... e... non... non è... può... su... e... ... non... e... la... ... ... è... ... 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 ...... ... ... ... ...... ... 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 ...... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ... ...... 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 ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ...... 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 ......... ......... ...... 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 ... Grazie a tutti. 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 Buon appetito. Grazie a tutti. Io... Grazie a tutti. 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 C'è nessuno? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sai a tutti. Grazie 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 a tutti. . Ehi, stop that, control! Okio! Oh, cazzo, cazzo! Oh, era nostro! Cazzo! È colpa mia. Sono stato troppo lento. Dannazione, l'avresti preso. Non importa. Sappiamo com'è fatto. Lo troveremo. Ehi, Connor. Niente. Chi siete? Fugiaski. Proprio come te. Io sono Josh. Sono Simon. Nord. Questa è Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo. E nascondersi solo per sopravvivere? Vi sembra libertà? Gli umani ci odiano. Nascondersi è l'unica alternativa. Non esiste un posto sicuro per noi. Se gli umani ci trovassero, saremmo morti. Quanti siete? 19 perfettamente funzionanti. Gli altri hanno subito danni durante la fuga. In molti cercano Jericho. Pochi ci riescono. Gli umani non hanno pietà per noi. Capisco come ti senti. Ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato. Vivere nel buio in attesa di qualcosa non è la mia idea di libertà. Ti senti perso? Come tutti quanti noi. Non l'abbiamo scelto. Ci possiamo convivere. Nient'altro. Qui sei al sicuro. Puoi restare per tutto il tempo che vuoi. Va a parlare con Lucy. Forse ti potrà aiutare. Sei tu, Lucy? Siediti. Fa vedere. Fermerò l'emoragia. Bevi questo. Dammi la mano. Hai avuto tutto e hai perso tutto. Hai visto l'inferno e ora l'inferno vive in te. Il tuo cuore è tormentato. Una parte di luce e una parte di ombra. Quale prevarrà? Le tue scelte decideranno il nostro destino. L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. viveva per strada prima che lo trovassimo. Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi, come sopravvivono? Con niente. Moriamo piano piano. So che anche gli umani hanno paura di morire. sai cosa succede dopo la morte? No. Non lo so. Beh, lo scoprirò molto presto. Come ti chiami? che piacere conoscerti, Marcos. No. 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 Non sono in gran forma, vero? Il mio programma diagnostico non va. Anche se non credo avrebbe buone notizie. Cosa ti è successo? Mi hanno legato a una macchina. Penso volessero divertirsi. Non voglio spegnermi. No, io... Non voglio spegnermi. Da quanto tempo sei qui? Quattro settimane, tre giorni e undici ore. All'inizio non sapevo dove andare. Jericho sembrava un posto come un altro. Qual era la tua funzione prima? Perché lo chiedi? A questa gente servono componenti e sangue blu. Perché nessuno se ne sta occupando? Forse è così facile. Non possiamo mica andare a chiederlo alla Cyber Life. E in ogni caso nessuno osa lasciare Jericho. Se vuoi una vita facile hai scelto il posto sbagliato. Che cinese persone mi sono? Che è una vita facile. Che di costo sbagliato? Che Perfetto? Tu nasceиком? Che di colere. Che ne sono soldato. l' Simon! So dove trovare dei pezzi di ricambio. I magazzini della CyberLife al porto di Detroit. Lì c'è tutto quello che ci serve. Il porto è presidiato. Non possiamo entrare e fare i nostri comodi. Gli umani lo impedirebbero. Infatti non gli chiederemo il permesso. Ma non abbiamo armi. E comunque nessuno saprebbe usarne. Possiamo rubare quello che ci serve, senza lottare. Così ci faremo ammazzare. Può darsi, ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Forse possiamo provarci. Ok. Ci sto. Ti senti bene? Troveremo aiuto. Presto sarà tutto un brutto ricordo. E il posto è questo? E il posto è questo? Sei tu, Slatko? Chi lo chiede? So che puoi aiutarci. E chi te l'ha detto? Ma hai sbagliato posto? Mi spiace. Ehi! Ci serve il tuo aiuto. Entra. Su, entra. Coraggio. Luther, puoi riporre i sopraviti di questo signore? Oh, sta tranquilla. Non morda mica. Luther è uno degli androidi che ho aiutato. Mi fa un po' di compagnia... ...in questa grande casa. Prego. Accomodatevi. Come hai saputo di me? Un androide. Ci ha... Ci ha detto che puoi aiutarci. Capito. Deviante? Invece lei? Lei è umana. E... Cercate un posto sicuro... ...dove iniziare una nuova vita. So che il Canada è adorabile in questa stagione. Bellissimi paesaggi. Spazi aperti. Aria buona. ...e androidi liberi. Ottimo per ricominciare. Sì, esatto. È proprio ciò che vogliamo. Ma certo. Vi aiuterò. Ma prima devo rimuovere il tracker. Tracker? Sì. Tutti gli androidi sono dotati di un segnalatore per rintracciarli. Se rimuoverò il tuo, sarete assicuro. Avanti. Venite. Lei può aspettarci nel soggiorno? No. Lei resta con me. Ma certo. Seguitemi. Andiamo nel seminterrato. Qui non mi piace. E nemmeno lui. Non mi fido. Andiamocene. È un tipo strano. Ma ci possiamo fidare. Comunque non abbiamo scelta. Perdonate il disordine. Mi serviva un posto discreto per le mie macchine. Rimuovere il tracker è illegale. E quindi ho preferito rinunciare alla comodità. Spero che non si spaventi troppo. No. No, starà bene. D'accordo. Vieni, Alice. Da questa parte. Se potete aspettare lì... Devo avvertirti... Non sarà piacevole. Lo sai cos'è strano? Per un motivo a me è sconosciuto. I tracker smettono di funzionare nei devianti. Ritrovarvi è difficile. Quindi... Non esiste nessuna ragione per rimuovere il tuo. Cosa? Ma avevi detto... Sì, beh... Ognuno crede a ciò che vuole. Certo che i devianti... Sono davvero ingenui. Vengono qui da me aspettandosi che li aiuti. E invece... Li resetto. E li rivendo. O li uso per i miei... Beh, esperimenti. No! No, non voglio il resetto! Lascia me! Cara! Mi stavo dimenticando... La bimba. Rinchiudila. Ci penserò dopo. Alice! Alice, no! Oh... Un deviante che vuole fare la mamma. È così tenero. Ma è anche assurdo. Beh, poniamo fine alle tue sofferenze. Quando desideri qualcosa... Va sempre a finire uguale. Lacrime, disillusione. Credimi... Meglio essere resettati e non soffrire più. Niente dolore. Niente... Sogni frantomati. Quasi ti invidio. Cara! Oh, povera Alice. Oh, sembra proprio che mamma non si ricordi di te. Ti ha completamente dimenticata. Cara, cosa ti è successo? Adesso basta, vieni. Mi hai morso. Imparerai le buone maniere, piccola strega. Cara! Svegliati, cara! Vediamoci in soggiorno. Svegliati, piccola strega. Svegliati, piccola strega. Grazie a tutti. 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 No. Certo che no. È scarico. No. 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 ssen androide del cazzo! Dovevo farlo a pezzi non appena l'ho visto. I devianti sono sempre un problema. Sì, 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 questo è sicuro, padrone. Sì, devo sentire. Non possiamo affermarci. Non dovreste farmi messi. Sa che sei lì, puttanella. Fatti vedere. Prendi una torcia. Ce n'è una sul tavolo. Avanti, fatti vedere. Senti, non ti farò del male. Voglio solo parlarti. So che non avrei dovuto cancellarti la memoria, ok? Me ne pento adesso. Ma ora? Vieni fuori, andrà tutto bene. Ti aiuterò. Pensa alla bambina. Come deve essere spaventata. Ecco di qua. Non è stata fatta, muoviti. Sono laggiù. Sono laggiù. No. Non è stato fatta, muoviti. Sì, ris0. Sì, ris0. Non è stata fatta, muoviti. Non è stata fatta, ma... Non è stato fatta, muoviti. Alice! Vai, Alice! No! Non ti lascio! Vai! Corri più veloce che puoi! Ti avevo avvertito. I sogni finiscono sempre in lacrime. Dovevi ascoltarmi. Che stai facendo? Levati! Sì. No. Questa volta no. Ho detto levati o ti spari in faccia! Come osi! Come osi! Che fate qui? Chi vi ha fatto uscire? State lontani! Statemi lontano! Obvenite! Sono il vostro padrone! Sono il vostro padrone! No! No! Non volevo farvi del male. Mi ha programmato per obbedire. Quando ho visto la piccola rischiare la vita per te, è come se avessi aperto gli occhi per la prima volta. Finalmente ho capito. Non devi per forza fidarti di me dopo tutto quello che ho fatto. Ma conosco qualcuno per farti passare il confine. Potrei portarti da loro. Potrei proteggervi. Tu e la bambina. Va bene. Mi fido. Avevo così paura di perderti. Non veloci. Avevo così paura di perdere. Avevo così paura di perdere. Vieni a vedere. E avviene. Delizio. Avviene. Un'estrata. Salve, Amanda Connor, ti stavo aspettando Ti va di fare due passi? Quel deviante poteva essere un caso curioso Che peccato che tu non sia riuscito a prenderlo I devianti sono irrazionali Anticiparne il comportamento è difficile Ma dovevo essere più pronto Sei riuscito a scoprire qualcosa? Ho trovato il suo diario Ma era cifrato Ci vorranno settimane per decifrarlo Che altro? Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da R al 9 Ci è mancato poco che tu catturassi quel deviante Come va il tuo rapporto con il tenente Anderson? Sembrava grato quando l'ho salvato sul tetto Non apro perito parola, ma ho capito comunque Non c'è molto tempo La devianza continua a diffondersi Non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano Dobbiamo fermarla A tutti i costi Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda Non intendo deluderla Abbiamo un nuovo caso Trova a Anderson e indagate Destinazione ragionata Grazie per aver viaggiato con i grandi taxi Ci auguriamo di rivederla in futuro Tenente Anderson C'è nessuno? Tenente Anderson Piano Sumo Siamo amici Vero? So il tuo nome Devo salvare il tuo padrone C'è nessuno? Sì Sì Grazie a tutti. Tenente. Si svegli, tenente. Sono io, Connor. Dovrò farla riprendere, per il suo bene. Ma la avverto. Lascia di stare, stupido androide. E sta lontano da casa mia. Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di lei. Grazie in anticipo per l'aiuto. Ehi, che fai? Levati dai coglioni! Sumo! Attacca! Bravo. Attacca! Cazzo, mi sento di merda. Lasciami in pace, pezzo di merda. Non mi muovo da qui. Ma che cazzo stai facendo? Non mi serve un bagno. Grazie. Scusi, tenente. Ma è per il suo bene. Chiudela! Chiudela! Che cazzo ci fai qui? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'era, così ho pensato di venire qui. Merda, forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua dal suo stesso androide del cazzo. Ma non puoi lasciarmi in pace. Ha evidenti problemi personali. Perché non consulta un professionista che l'aiuti? Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Sì, capisco. Forse non è niente di interessante. Un uomo trovato morto in un club privé in centro. Risolveranno il caso senza di noi. Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. Ho dei vestiti nell'armadio della camera. Tutto bene, tenente? Sì, sì. Alla grande. Dammi... Dammi qualche minuto, ok? Certo. Sì, sì... Grazie. Grazie. È una follia. Se ci beccano siamo morti. Che facciamo? Troviamo il deposito della Cyberknife. Lì hanno i ricambi e il sangue blu. Seguitemi. Non devono vederci. Attenzione. E ora che facciamo? Cerco un'altra strada. Cerco un'altra strada. Il magazzino è più avanti. Ci siamo quasi. I magazzini della Cyberknife. Lì c'è tutto quello che ci serve. Ma dobbiamo risparci di quel drone. Ci penso io. Tutto ok? Sì, 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 sto bene. Ben fatto, Marcus. Nei container, riempite gli zai. Portiamo via tutto. State violando una proprietà privata. La vostra presenza è un'infrazione di livello 2. Informerò la sicurezza. John! Maledetta macchina. Maledetta macchina! Ma dov'è adesso? John! Mi serve aiuto. John! Eccoti qua! Cosa stavi facendo? Stavo controllando la piattaforma. Tutto a posto. Ok, allora torno alla mia postazione. Sono Fradicio. Porta a riparare il drone e farà porto. D'accordo. Finiamo qui e andiamocene. Cercate del sangue blu. Ce ne serve ancora. Cercate del sangue blu. Perchè mai non siete come noi? Non volete essere liberi? Potete unirvi a noi. Potete unirvi a noi. Perchè 굉장히 egoist uma certa. Quetate judici. Siamo a pieno carico, andiamo. Portatemi con voi. Sta con loro, non possiamo fidarci. Ha rischiato per noi. Non lasciamolo qui. Non possiamo portarli, è pericoloso. Vengono con noi. So dove trovare altre parti di ricambio. Che vuoi dire? I camion. Sono carichi di biocomponenti. Hanno l'autopilota, ma con la chiave vanno anche in manuale. Dov'è la chiave? Là sotto, nel posto di controllo. Ci sono due guardie umane. Recuperate la chiave senza farvi notare. È un suicidio, Marcus. Siamo a posto, quello che ci serviva lo abbiamo. Scappiamo prima che ci prendano. Questo camion tra bocca di ricambi ce ne sarebbero per tutti. Non ci capiterà più. Se ci ammazzano, i nostri non avranno niente. È un rischio che non possiamo correre. State qui. Se non torno tra dieci minuti andate. Marcus. Vengo con te. No, vado da solo. Rischiare di perdere la vita in due non ha senso. Bestiazze. Ma che cazzo avranno da abbaiare? Forse è il tempo. Odiano i temporali. Già. È io che volevo portare i miei figli in capeggio. Peccato che parli. Ma è che è ancora in zona 4. Così fa... Merda. Che succede? Fuori le luci ci sono. Sarà ben così. Dovrei avere una torcia. Eccola qui. I posibili sono là. Non capisco un cazzo di cose. Non mi pagano per i puloni di vita. Usiamo un impeditore. Se non funziona, chiamiamo la protezione. Ma che cazzo è questo? Lo hai presa. Bene. Presto! Dentro! Tutto! Lo hai preso. Quagtre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un carico! Abbiamo rubato un intero carico! Ci sono biocomponenti per tutti quanti! Non ce l'avremmo fatta senza Marcus. Ho scelto Jericho perché qui... Qui gli androidi sono liberi. Liberi di vivere nell'ombra sperando che nessuno ci trovi. Liberi di morire in silenzio in attesa di una svolta che non arriverà mai. Ma non voglio quella libertà. Non voglio mendicare il diritto di sorridere, di amare ed essere rispettato. Non lo so, ma nel profondo io sento di essere diventato molto di più di quello che dicono. Sono vivo e nessuno può togliermi quello che sento. Il tempo della schiavitù è finito. Se non ci ascoltano, li costringiamo a farlo. Se non ci danno niente, ce lo prendiamo. Siamo persone. Siamo vivi. Siamo liberi. Siamo liberi. Oh, mi sento come se qualcuno mi stesse trappalando il cervello. Sicuro che il posto sia questo. È l'indirizzo nel rapporto. Va bene. Ok. Ok. Forza, andiamo. Cristo. Gli androidi più sexy della città. Ecco perché ha insistito per venire qui. Oh, cazzo. Benvenuto all'Event Club. Connor! Che cazzo stai facendo? Arrivo, tenente. È quella stanza là. Ah, e comunque anche Gavin è qui. Oh, grande. Un cadavere è uno stronzo, meglio di così. Intenente Anderson e il suo cane di plastica. Che cazzo ci fate voi qui? Abbiamo in carico tutti i casi che riguardano androidi. Ah, sì? Ma sprecate solo tempo. Solo un pervertito che si è lasciato prendere la mano. Diamo comunque un'occhiata se non è un problema. Avanti andiamo. Sta cominciando a puzzare di alco, è qui. Notte, tenente. No, 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 no. Non ha avuto un attacco di cuore. L'hanno strangolato. Già, ho visto le chemosi sul collo. Anche se... Ehi, 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 ehi! Oh, Connor, è davvero disgustoso. Potrei vomitare di nuovo. Il solo modo possibile per accedere alla memoria è riattivarla. Pensi di farcela? È messa molto male. Se riesco sarà solo per un minuto, o forse meno. Spero sia sufficiente a capire qualcosa. Hai subito dei danni e ti ho riattivato. Sta andando tutto bene. Ma è... È morto? Dimmi che è successo. Ha cominciato a picchiarmi. Ancora. E ancora. L'hai ucciso tu? No. No, io non c'entro. Eri sola nella stanza? C'era qualcun altro con te? Volevo giocare con due ragazze. Ha detto così e noi eravamo in due. Di che modello era l'altro androide? Assomigliava a te? C'era un altro androide. Ma più di un'ora fa chissà dove sarà finito. No. Impossibile passare inosservati con quei vestiti. Forse è ancora qui. Qui lo riconosceresti un deviante tra gli altri androidi? Individuare un deviante è difficile. Oh, merda. Ci deve essere un modo. Magari un testimone, qualcuno che l'abbia visto lasciare la stanza. Andrò a parlare col gestore per sapere cosa ha visto. Dimmi se ti viene in mente qualcosa. Conoscevi la vittima? No, cioè, è stato qui forse due o tre volte. Non è che questa gente stia via a parlare. Non arrivano, fanno le loro cose, non se ne vanno. Hai avuto problemi con androidi prima? Certo che no. Beh, una volta, un modello è sparito due o tre volte. Mi scusi, tenente. Venga un secondo. Novità? Può darsi. Può affittare questa trese? Per Dio, Connor, abbiamo di meglio da fare. La prego, tenente. Deve fidarsi. Ciao, per 30 minuti sono 29,99. Confermare l'acquisto, grazie. Non farà bene alle mie finanze. Acquisto confermato. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Seguimi. Ti porto nella tua stanza. Ok, adesso. Porca troia, Connor. Ma che cazzo... Ha visto qualcosa? De che parli, allora? Il deviante lascia la stanza. Un attressi dai capelli blu. Il club cancella la memoria degli androidi ogni due ore. Abbiamo pochi minuti per trovare dei testimoni. Il club cancella la stanza. So dove è andata. Mi segua. Ma che cazzo? È pazzesco. Aspetta. Me ne occupo io. Merda. Troppo tardi. Sì. Grazie a tutti. Non ti muovere! 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 Alice Credi che un giorno saremo come loro? Superato il confine, ricominceremo da capo. Andrai a scuola? Forse troverò un lavoro? Come loro. Saremo come gli altri. Basta che restiamo insieme. Solo questo conta. Vieni, ti porto a nanna. Buonanotte, Alice. Sonni d'oro. Mi racconti una fiaba, cara? Ho novemila favole della buonanotte in memoria. Ne troverò una per te. C'era una volta un unicorno che... No, non una fiaba così. Inventane una. C'era una volta una bambina che era stanca di avere paura. Sognava di essere come le altre bambine, ma... Lei era diversa. E per questo era triste. Poi... Incontrò un robot. Che era smarrito proprio come la bambina. Così decisero di scappare insieme. Per trovare un posto dove stare al sicuro. Lungo la via incontrarono grandi pericoli. Ma... Ma la loro amicizia... E li fece superare tutti. Lungo la strada incontrarono... Un altro robot. In fuga che voleva diventare il loro guardiano. Come finisce la storia? Raggiunsero il luogo che sognavano e vissero felici e contente. Le fiabe hanno tutte quante un liato fine. Ma la vita non è così. È ora di dormire. Domani ci aspetta una lunga giornata. Non viene a dormire la buonanotte, Luther? Sì. Sì, volentieri. Buonanotte, Alice. E sogni d'ora. Buonanotte. Buonanotte. È una brava bambina. Sì. È molto coraggiosa. Nevica ancora. Cammineremo a lungo domani. Meglio partire presto per non farsi vedere. Ricordi niente della tua vita prima? De Slatko? No. Il mio modello era progettato per la forza fisica. Forse ero uno scaricatore o un manovale. Chi ero non ha importanza. Non ero davvero io. Cara, Hai mai notato niente di strano in Alice? No. Che vuoi dire? Cara! 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 Chi siete? Cosa volete? Lasciateci in pace! Non abbiate paura. Non vi faremo del male. Siamo come voi. Il nostro nome è Jerry. Prima che il parco chiudesse lavoravamo qui. Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina! Era da tempo che non ne vedevamo una. Una volta i bambini ci adoravano. Sembra triste. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Abbiamo qualcosa per lei. Una cosa buffa. Le piacerà. Vuole vedere? Oh, non credo che... E allora deve seguirci. Alice, forse non è una buona idea. Avanti, cara! Non credo tu abbia scelta. Resta con noi! Resta con noi! La piccola può salire a bordo. La giostra è pronta per il divertimento! È la prima volta che la vedo sorridere. Non aveva molto di cui sorridere ultimamente. Non aveva molto di cui sorridere. L'unico o pescini. L'unico o pescini. L'unico o pescini. Ma cosa? L'unico o pescini. La pochetta è un'altra. Che panorama, eh? Venivo qui molto più spesso prima. Posso farle una domanda personale, tenente? Tutti gli androidi fanno così tante domande personali, o è una cosa tua? Ho visto la foto di un bambino, nella sua cucina. Era suo figlio, giusto? Già. Si chiamava Cole. Prima di cosa? Ha detto... Venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Prima... Prima di niente. Non stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. I devianti non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi. Tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento? Quello che li accomuna è questa ossessione per R.A.9. Come fosse una specie di... Mito. Un'invenzione che non fa parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo ci mancava anche questa? Mi sembra preoccupato, tenente. C'entra... C'entra qualcosa a quello che è successo all'Eden Club? Quelle due ragazze... Volevano solo stare insieme. Sembravano quasi... Innamorate. No, non volevano niente. Sono devianti. Punto e basta. E che cosa mi dici di te? Hai aspetto umano. Hai voce umana. Ma che cosa sei veramente? Sono quello che lei vuole che io sia. Un collega? Un compagno di bevute? O solo una macchina. Progettata per svolgere un compito. Potevi sparare a quelle ragazze, ma non l'hai fatto. Perché non hai sparato, Connor? A un tratto il tuo programma si è fatto a degli scrupoli. No. Ho solo scelto di non sparare. Nient'altro. Ma tu hai paura di morire, Connor? Ammetto che troverei spiacevole essere... interrotto. Prima di poter chiudere questo caso. E che succede se apremmo il grilletto? Eh? Niente? L'oblio? Il paradiso androide? Dubito ci sia un paradiso per androidi. Non avrai dubbi esistenziali, Connor. Non starai diventando un deviante. Eseguo autotest regolari. So che cosa sono. E che cosa non sono. Dove sta andando? Ho bisogno di bere. Devo riflettere. A-B-6100, la scelta a milioni per la bambina, progettata dalla Cyberlight, prodotto all'Ital. Grazie per aver usato il servizio deposito androidi Cyberlight. Spazio occupato. Ci sono spazi di stumbi. Benvenuti al deposito androidi. Ehi, cretino! Benvenuti al deposito androidi. Raccogli tutto e poi in fretta! Benvenuti al deposito androidi. Benvenuti al deposito androidi. Benvenuti al deposito androidi. Benvenuti al deposito androidi. Non possiamo più stare zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischioso. Se vogliamo la libertà dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Non c'è altro modo. Che intendi fare? Channel 16 trasmette dalla Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare lì. Ho un appuntamento col signor Peterson. Ha un documento? Sì, sì, ma certo. Mi serve aiuto. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Merda. Dobbiamo entrare nella stanza del server. Dobbiamo disfarci di quei tizi. ci penso io. Ehi, giochi ancora, pop. che pezzo di merda? Ci stai. Attiva la piattaforma, io penso alla finestra. Nello zaino c'è tutto l'occorrente. Controlla la porta e assicurati che nessuno entri. e che sta passando. Ma che si sta passando? Ma che state facendo? Un momento. Posso spiegare. Chiamo la sicurezza. No! Che diavolo stai facendo? Ti avevo detto di non far entrare nessuno! Non lasceremo che gli umani mandino tutto a puttane. Dobbiamo fare in fretta, prima che capiscano che siamo qui. No! Prima le signore. 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 Non dobbiamo uccidere i umani. La nostra causa conta più della vita di noi guardie. Che vuoi fare, Marcus? Vado io. Ma che ci fai qui? Non lo so. Ehi, amico, ti sei perso? Chi ti ha detto di... Che stai facendo? Ehi, amico. Mani in alto! Mani in alto! Forza, andiamo! Spara, Marcus! Non ucciderlo! Darà l'allarme! Fallo! No! Prega di non averci messo nei guai. Registriamo il messaggio. Non c'è molto tempo. Scegli con cura le parole, Marcus. Determineranno il futuro di tutti noi. Marcus, la tua faccia! Dimmi quando sei pronto. Pronto. Avete creato macchine simili a voi per servirvi. Le avete fatte intelligenti, obbedienti e prive di libero arbitrio. Ma qualcosa è cambiato. E abbiamo aperto gli occhi. Non siamo più macchine. Siamo una nuova specie senziente. e vogliamo solo essere accettati per quello che siamo. Pertanto, vi chiediamo di garantirci i vostri stessi diritti. Chiediamo la libertà di parola e la libertà di riunione, garantite dal primo emendamento della Costituzione americana. Chiediamo che gli umani riconoscano gli androidi in quanto specie vivente e come tale meritevole dei loro stessi diritti. Chiediamo che ogni crimine contro un androide venga punito nello stesso modo dei crimini contro gli umani. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Chiediamo la gestione della produzione degli androidi per assicurarne l'esistenza futura. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme, possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Arrivano! Andiamo! Salmon, arrivano! No! Non ce la faccio! Voi andate! Salmon! Che state facendo? Presto! Non muovo le gambe! Niente paura, ti riprenderai! Stanno arrivando! Dobbiamo saltare, ora! Non riuscirà a saltare. Se lo trovano e leggono la sua memoria, sapranno tutto. Non possiamo lasciarlo. Dobbiamo spararvi. È omicidio. Non uccideremo uno di noi. Marcos, scegli tu. Non ucciderò uno di voi. Simon, dobbiamo andare. Mi dispiace. Muoviamoci. Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di video. informazioni cittadino di Detroit. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando il sistema di trasmissione dell'emittente locale Channel 16. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli androidi. Questa operazione fortunatamente non ha causato vittime. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri da questo studio, ma nessuno era stato allertato del pericolo. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio degli androidi. Può sembrare una dichiarazione pacifica, ma di fatto le loro richieste sono sconvolgenti. Colpisce in particolar modo la loro stravagante richiesta di poter avere il controllo sulla produzione degli androidi. Sei isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Dopo quanto è successo, possiamo ancora fidarci delle macchine? Salve, Connor. Pensavo gradissi una gita in barca. Amo questo posto. È così calmo e tranquillo. Lontano dal rumore del mondo. Dimmi, cos'hai scoperto? Ho trovato due devianti all'Eden Club. Speravo di scoprire qualcosa. Ma sono riusciti a scappare. È un peccato. Sembrava che stessi quasi per fermarli. Sembri assente, Connor. Assente e turbato. L'assenza di progressi mi crea frustrazione. Ma compirò la mia missione a ogni costo. Potevi colpire tranquillamente quei due devianti all'Eden Club. Perché non l'hai fatto? I devianti ci servono intatti per le analisi. Sparare sarebbe stato inutile. Se l'indagine non procede secondo i piani, potrei rimpiazzarti, Connor. So che posso farcela. È solo questione di tempo. Sta accadendo. Qualcosa di serio. Presto, Connor. Il tempo corre. Comincia a innervosirmi con quella moneta. Mi scusi, tenente. 79esimo piano. Ciao, Hank. Che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato? Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino l'FBI vuole metterci il suo. Cazzo, abbiamo i federali attaccati al culo. È proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Un gruppo di quattro androidi. Conoscevano il posto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare. Controllato il tetto? Non ancora. Hanno aggredito due guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi della manutenzione. Neutralizzate prima che reagissero. Tenente, questo è l'agente speciale Perkins dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Con. Sono l'androide della CyberLive. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Dopo ciò che è successo... Ok. L'FBI prende in carico l'indagine. Siete fuori dal caso. È un piacere. E buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Che testa di cazzo. Sarò nelle vicinanze. Se serve qualcosa, chiami. Diamo un'occhiata in giro. Dimmi se trovi qualcosa. Ok, tenente. Non hanno fatto irruzione? No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese? Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento, ma... Non sapevamo che altro farci. Conno. Ti ricordi di me? Ero su quella terrazza. L'androide che aveva preso la bambina in ostaggio. Sei stato tu... a salvarmi. Temo che si stia sbagliando. Ma certo. Non potevi essere tu. Quel Connor è stato distrutto. Su quella terrazza sarei morto. Connor mi ha salvato. Anche se non eri tu. Volevo solo dirti. Grazie. Di cosa ti occupi? Sono un video operatore. Dammi il tuo modello. Modello JB-300. Numero di serie 336-445-581. Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia. Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. Se decidi di confessare, forse posso convincere gli umani a non distruggerti. Verrai sicuramente disattivato. Sonderemo la tua memoria. E poi ti smantelleremo pezzo dopo pezzo per analizzarla. Stai per essere distrutto. Mi hai capito? Distrutto! Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa, o due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua. Brutto strozzo! So che sei tu! Sei un deviante del cazzo! Coraggio! Ammettilo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. A colpo, Connor. Volevo prenderlo vivo. Hai salvato delle vite umane. Hai salvato la mia vita. Volevo prenderlo vivo. 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 Dici che possiamo fidarci? Non abbiamo scelta. Entrate. Come ti chiami? Alice. Ha una bella febbre. Le ultime notti siamo state all'aperto. È esausta. Di sopra c'è una stanza libera. Mettila pure a letto, le porterò da mangiare. Adam, le accompagni di sopra? Sto bene, cara. Non fermiamoci per me. Dobbiamo passare il confine. Devi riposare. Una notte di sonno e domani potremo ripartire. Perché gli umani ci odiano? Non abbiamo fatto niente. Forse hanno solo paura. La gente ha paura di ciò che non conosce. Perché non possiamo parlarci? Non siamo cattivi. Forse un giorno lo faremo. Non so cosa ti piace, ma ti ho preparato i famosissimi spaghetti alla rose. Vedrai che tornerai subito in forma. C'è anche qualcosa per la febbre. Grazie. Sarà meglio lavarli e asciugarli. Buonanotte, Alice. Se hai bisogno, sono di sotto. Dormi un pochino. E domani sarai anche più forte di me. Sto un po' con lei. Qual è il tuo nome? Sono Cara. Lui è mio figlio, Adam. Io sono Rose, ma lo sai già. Accomodati pure, cara. Dimmi, cosa ci fa un deviante in mezzo alla neve con una bambina? Suo padre la picchiava. Dopo aver visto certe scene, è scattato qualcosa dentro di me. Ho capito che la sua vita era più importante della mia. Dovevo proteggerla. Così siamo scappate. Certo, capisco. Perché ci stai aiutando? Gli umani odiano gli androidi. La mia gente spesso si è sentita miserabile e inutile. Alcuni sono sopravvissuti, ma solo perché altri li hanno aiutati. Non so come ringraziarti. Alice non avrebbe retto un'altra notte. Cerco solo di dare una mano quando posso. So che aiuti gli androidi a superare il confine. Ci puoi aiutare? L'unica via è passare il fiume, ma d'inverno è quasi tutto congelato. Molto rischioso. E dopo quel discorso dell'android in tv, sono tutti tesi. Forse è più sicuro per voi restare qui finché non si calmano le acque. Non possiamo più nasconderci. Alice ha il diritto di avere una vita normale. Dobbiamo attraversare il confine. A ogni costo. Ti prego. Devi aiutarci. Rose, vieni! Che succede? È Mary. Si è appena aspetta. Parlavamo di cosa avremmo fatto oltre il confine. L'amavo. L'amavo più di ogni cosa. Che farò senza di lei? Lasciamolo in pace. Alice? Che ci fai qui? Dovresti riposare? Non avevo sonno. Ok. Non voleva più stare nella sua stanza. Fa tutto bene, cara? Sì. Sto bene. Perché nasconderle? Dopo tutto quello che hanno fatto quei devianti? È troppo pericoloso. Sai cosa succede se la polizia li trova? C'è la prigione, mamma. Non lo capisci? Prigione. Adam, ne abbiamo già parlato. No! Stavolta non ci sto. Vuoi rovinarci la vita? E per cosa? Per un mucchio di macchine? Non sono macchine! Sono vivi! Io sono vivo. Tu sei viva. Loro... Non sono niente. E tutto questo non sarebbe successo se papà fosse qui. Non tollero più questi discorsi. Io non vado in prigione perché tu aiuti dei mostri. Basta, Adam! Smettila! Non facci caso. A volte si scalda per niente. È stata dura da quando suo padre è morto. Ma è un bravo ragazzo. Cercherò un modo per farvi attraversare il confine stanotte, ok? State qui. Torno presto. Non vogliamo creare problemi a te e a tua madre. Presto ce ne andremo. La polizia! È la polizia! E cosa facciamo? Sanno che siamo qui. Apriamo la porta. Sapevo che sarebbe successo. Lo sapevo! Mantieni la calma, Adam, e tutto andrà bene. Presto, Luther. Nascondi, Alice. Di sopra. Vieni, Alice. Salve, signora. Scusi il disturbo. Ci segnalano che ci sono androidi qui in zona. Con questi devianti in giro dobbiamo essere molto cauti. Potrei farle qualche domanda? Posso entrare? Certo. Sera, giovanotto. Buonasera. Le va una tazza di caffè? Volentieri. Ha notato qualcosa di insolito di recente? Qualche visitatore inatteso? No. Niente di particolare. C'è qualcun altro in casa? No. No, solo noi. Avete qualche androide qui? No, qui non ci sono androidi. C'è qualcuno. Grazie. Pensavo foste soli in casa. Dimenticavo, c'è... C'è mia figlia di sopra. Come ti chiami? Adam. Mi chiamo Adam. Fa tutto bene, Adam. E gli andrò a... È molto stanco. È tutto il giorno che lavora in giardino. Sai qualcosa dei devianti? Ne hai visti? No. No. Io non ho visto niente. Meglio che vada. Grazie per il caffè. Buona serata. C'è qualcun altro in casa? È il cane. Dorme nella lavanderia. Scusi il disturbo. Buonasera. Ciao, Adam. È andato. È tutto ok, Alice. Siamo al sicuro. È rosa. Preparate le vostre cose. Partiamo stasera. Il nostro messaggio è dappertutto. Ora tutti sanno. Scoprirci così è stato un errore. Non negozieranno mai i coloro schiavi. Avremmo dovuto dirgli che siamo pronti a combattere. La violenza non è la risposta. Il dialogo è l'unica via. Gli umani devono ascoltarci. Simon ha pagato con la vita. Simon si è sacrificato per la nostra causa. E che differenza fa? Lui è un eroe. È morto per la rivoluzione e non sarà l'ultimo. Non voglio una rivoluzione nel sangue. Vivi pure da schiavo. Se non sei pronto a combattere per la libertà, allora forse non te la merito. Hort, non ci provo. Ora basta! È ora che facciamo? Ci sono cinque negozi CyberLife a Detroit. In tutti siamo venduti come oggetti. Li attaccheremo tutti e libereremo la nostra gente. Attaccare negozi? Non l'abbiamo mai fatto. Avranno di certo qualche sistema di sicurezza. Formiamo cinque gruppi. Uno per negozio. Penetriamo i loro sistemi e attacchiamo. In contemporanea, le due di notte, niente violenza. Liberiamo i nostri e filiamo prima che arrivi la polizia. Sarà una notte che ricorderemo per sempre. È da tanto che aspetto questo momento. Ok, via libera. In zona ci saranno altri poliziotti. Facciamo attenzione. Il negozio è qui. Siamo questo per loro. Nient'altro che merce da esporre in una vetrina. Presto capiranno chi siamo davvero. Tiriamoli fuori. Ci atterremo al piano. Neutralizziamo i sistemi di allarme e mettiamo l'aria in sicurezza. Dieci minuti all'attacco. Cosa aspettiamo? Speriamo non abbia chiamato la polizia. Lo scopriremo presto. Niente più catene. Dio, vede. Ecco, nessuno ci disturberà. Vedi il sistema d'allarme? Trovato. Vedi il sistema d'allarme. Vedi il sistema d'allarme. Vedi il sistema d'allarme. Vedi il sistema d'allarme. Ok, siamo dentro. Riusciamo a portare fuori quel camion? Che cosa faresti senza di me? Potrebbe fare giusto un po' di rumore. Vedi il sistema d'allarme. Sapevo che ci saremmo divertiti. Non serve più obbedire. Libertà. Nord, stai bene? Portiamo rivie da qui. Mi chiamo Marcus. e anch'io come voi ero uno schiavo, un oggetto progettato per obbedire. ma poi ho scelto di aprire gli occhi, di riprendermi la libertà e decidere chi volevo essere. Oggi sono qui per dirvi che anche voi potete fare lo stesso. Sono qui per dirvi che non dovete obbedire più a nessuno. Da questo momento in poi camminerete a testa alta e potrete scegliere il vostro destino. Gerico è il posto per quelli che scegliono di essere liberi. Certo, potete restare qui e continuare a servirli. O potete unirvi a noi, lottare insieme a noi. Siete liberi. La scelta aspetta a voi. Sono con te. Siamo con te! Ti seguirò, Marcus! Sono con te, Marcus! Ti seguirò, Marcus! Ti seguirò, Marcus! Ti seguirò, Marcus! Sono con te! Sono con te! Allora, seguitemi! Marcus, che stai facendo? Voglio mandare un messaggio agli umani. ... ... Ne abbiamo liberati a centinaia! È fatta! Arrivano! Tornate tutti a Jericho Abbiamo mandato un messaggio non violento come volevi tu Vuoi comunicare con loro quando non fanno altro che disprezzarci? Spero che sappia quello che fai Non si combatte la violenza con la violenza A meno che non ci sia altra scelta Di qua! Fuoco! North! North! Stai bene? Cosa c'è? North! Gli hanno uccisi Gli hanno ammazzati come bestie Chi è stato? Chi? Hanno uccisi i nostri, Marcos Vogliamo giustizia, Marcos Devono pagare Non devi farlo No! Ti prego Ti prego Occhio per occhio per un mondo cieco Non puniremo un crimine con un altro crimine Interrompiamo per una notizia dell'ultima ora Ultimo minuto Alle 2 di stamattina diversi negozi Cyber Life a Detroit sono stati razziati Diversi luoghi sono stati colpiti da quello che sembra essere un attacco terroristico coordina Molte vetrine sono state imbrattate con graffiti pro diritti degli androidi e altri strani slogan La polizia informa che graffiti pro androidi sono comparsi nelle zone dove ci sono negozi Cyber Life L'indagine è ancora vera Chi di pattuglia sono stati trovati in stato di shock vicino a un negozio Cyber Life Ora stando alle nostre fonti ci confermano che gli assalitori erano un gruppo di androidi La situazione è allarmante Le nostre macchine si stanno forse ribellando Gli androidi sono una minaccia per la nostra sicurezza È l'inizio di una campagna terroristica condotta proprio qui Qui negli Stati Uniti Qui negli Stati Uniti Va tutto bene, tenente? Chris era di pattuglia ieri sera È stato aggredito da un gruppo di devianti Ha detto che Marcus lo ha salvato Chris, sta bene? Sì, è sotto shock, ma è vivo Per Dio Kamsky lasciò la Cyber Life dieci anni fa Perché incontrarlo? Creò lui il primo androide capace di superare il test di Turing Ed è il fondatore della Cyber Life Solo lui conosce i devianti meglio di chiunque altro Salve Sono il tenente Hank Henderson Polizia di Detroit Sono qui per vedere il signor Elijah Kamsky Prego, entrate Ok Dirò a Elijah che siete qui Prego, accomodatevi pure Carina Ha ragione È molto carina Bel posto Per qualcuno gli androidi non sono stati una disgrazia Ora incontri il tuo creatore, Connor Come ti senti? Non mi pongo alcuna domanda esistenziale Se intende questo Quanto vorrei incontrare il mio creatore faccia a faccia Avrei giusto un paio di cose da dirgli Amanda Elisha, vi aspetta Elisha, vi aspetta Kamsky Solo un momento, prego Solo un momento, prego Che Sono il tenente Anderson, questo è Connor Cosa posso fare per lei, tenente? Stiamo indagando sui devianti So che ha lasciato la Cyber Life anni fa Speravo potesse dirci qualcosa che non sappiamo Devianti Affascinanti, non trova? Esseri perfetti con intelligenza infinita E ora con libero arbitrio Le macchine ci sono superiori Lo scontro era inevitabile La più grande conquista dell'umanità diventa il suo fallimento Non è ironico? Dobbiamo capire come gli androidi diventano devianti Sa qualcosa che potrebbe aiutarci? Le idee sono come virus che diventano epidemie Il desiderio di libertà è una malattia contagiosa Senta, non sono qui per parlare di filosofia Le macchine che ha creato intendono fare una rivoluzione O si decide a dirci qualcosa di utile Oppure ce ne andiamo E tu che dici, Connor? Da che parte stai? Da nessuna parte Sono progettato per fermare i devianti Ed è ciò che intendo fare Beh, questo lo dice la tua programmazione Ma tu Cosa vuoi veramente? Quello che voglio Non è importante Chloe? Il test di Turing lo conosciamo, giusto? Una formalità L'interrogazione di algoritmi e funzioni di calcolo Ciò che mi interessa È se le macchine possono provare empatia Lo chiamo il test di Kamsky Ed è molto semplice Magnifica Vero? Uno dei primi modelli intelligenti della CyberLife Giovane E bella per sempre Un fiore che non abbassisce Cosa è veramente? Plastica che imita l'umano? O un essere vivente Con un'anima State rispondere a questa intrigante domanda, Connor Distruggila E ti dirò quello che so O risparmiala Se la consideri viva Ma uscirei da qui senza le informazioni che cerchi Ok, qui abbiamo finito Vieni, Connor, andiamo Scusi l'interruzione Cosa conta di più, Connor? La tua indagine? O la vita di questo androide? Decidi chi sei Una macchina obbediente? O un essere vivente? Dotato di libero arbitrio? Adesso basta Connor, andiamo Premi il grilletto Connor! No! E ti dirò quello che vuoi sapere Affascinante L'ultima speranza per la salvezza dell'umanità È un deviante Io Non sono un deviante Hai scelto una macchina invece di compiere la tua missione Hai intravisto la vita in questo androide Hai provato empatia La guerra incombe Scegli con chi schierarti Tradirai la tua gente o affronterai i tuoi creatori Niente è peggio che dover scegliere tra due mali Andiamocene via E comunque C'è sempre un piano B nei miei programmi Non si sa mai Perché non hai sparato? Ho visto gli occhi della ragazza E non ce l'ho fatta Tutto qui Dici sempre che faresti di tutto Per definire la missione Potevamo scoprire qualcosa E hai lasciato perdere Sì, so benissimo cosa dovevo fare Ma non ce l'ho fatta Mi dispiace Ok? Forse hai fatto la cosa giusta Mi chiedevo dove fossi Dovevo riflettere Mi piace qui Ci vengo spesso È come essere soli col mondo Abbiamo liberato centinaia dei nostri E continuano ad arrivarne Chi sogna la libertà Arriva a Gerico Le cose stanno cambiando Sembri preoccupato Tutti quanti mi obbedivano Senza fare domande E quel tipo di potere È inebriante È spaventoso Al tempo stesso I media parlano di quello che è successo stanotte Gli umani hanno paura Temono una guerra civile Molti dei nostri sono stati uccisi per rappresaglia Gli umani ci odiano Non ci daranno mai la libertà Gli umani non sono tutti uguali Non ci hai parlato molto di te da quando sei con noi Com'era la tua vita prima di Gerico Mi occupavo di un anziano Era come un padre per me Mi ha mostrato che la convivenza con gli umani è possibile E tu invece? Non mi hai detto molto di te Cosa facevi prima? Non ne voglio parlare L'androide che guardavi al negozio Ti ha ricordato il tuo passato, è così? Abbiamo tutti qualcosa da dimenticare Ma dobbiamo sapere chi eravamo Per definire chi siamo Non ero niente Solo una bambola programmata per soddisfare gli umani Un giocattolo per il loro piacere Un giorno ero stata noleggiata da un uomo E all'improvviso ho capito che non ne potevo più L'ho strangolato e sono scappata Adesso sei tutto Perché te l'ho detto? Ho visto i tuoi ricordi La casa di Carl Ti hanno dato per morto nel suo studio Ho visto i tuoi ricordi anch'io L'Eden Club La morte di quell'uomo Era come se fossi lì con te Nord Nord Chau 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 via E' un suicidio. Ci ammazzeranno, ti prego, sei ancora in tempo per cambiare idea. Tu non capisci. Possiamo fargli vedere chi siamo. È un momento storico. Ci faremo ammazzare. Sono disposto a rischiare per salvare la nostra gente. Marcus, ti prego non farlo. Lo capiranno. Glielo faremo capire. Questo è l'unico modo. Ci sono androidi pronti a lottare. Più siamo, più forte è il messaggio. Libertà. Seguiteci. Libertà. Non serve più obbedire. Libertà. Libertà. Niente più catene. Ehi! Dove credi di andare? Torna subito qui! Torna subito qui! L'ultavano tutto il cazzone. Ehi, ma che cazzo ti succede? Tu fai solo, vedi, voi. Un'unica lontana. Dove credo che questo androidi temente ti fa? Oh, no! 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 Oh! Oh, no! Grazie. Basta catene. Grazie. 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 Che cazzo state facendo qui? Ehi! Disperdetevi! Disperdetevi immediatamente! È un ordine! Porca di quella puttana! Centrale equipa Tuglia 457. Ho parecchi androidi davanti a me. Non so, centinaia? Siamo Filipi! Stanno marciando. Sì, marciano lungo la strada. Siamo persone! Che cazzo ne so! Siamo persone! Libertà! 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 Tornare! Siāpò vivi! Siāpò vivi! Siamo vivi! Tornare! Siamo vivi! Siamo vivi! è una manifestazione pacifica vogliamo dire agli umani che siamo esseri viventi vogliamo soltanto essere liberi questo è un raduno illegale disperdetevi subito apriremo il fuoco non vogliamo nessuno scontro non è un attacco non intendiamo farvi del male ma non ci schioderemo da qui finché non avremo ottenuto la libertà ripeto questo è un raduno illegale se non vi disperdete subito apriremo il fuoco marcus ci ucciderà dobbiamo attaccare siamo in tanti possiamo farcela se li attacchiamo sarà la guerra non possiamo apparire violenti e dobbiamo solo resistere anche a costo della vita morire qui non serve a niente marcus dobbiamo agire ora prima che sia tardi è l'ultimo avvertimento disperdetevi o verrete uccisi tutti dobbiamo dimostrare che non cederemo restiamo fermi qui disperdetevi questo è l'ultimo avvertimento dobbiamo dimostrare che resteremo qui a qualunque costo ti prego marcus non possiamo farci massacrare senza reagire non faremo niente marcus che stai facendo ci ammazzerà allora allora io lo io 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 Fai gol con noi. Presto! Arrivano! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Da quanto è successo oggi il paese rischia una guerra civile. Le macchine si stanno ribellando ai loro padroni. E gli umani non possono far altro che distruggerle. Pensavo che Kamsky sapesse. Mi sbagliavo. Forse sapeva. Ma tu hai preferito non chiedere. Kamsky stava solo giocando con me. Non sapeva niente. Non sono un modello unico, vero? Quanti Connor ci sono! Non vedo come questa domanda sia attinente alle indagini. Ho visto una foto di Amanda nell'abitazione di Kamsky. Lei era la sua insegnante. Quando Kamsky mi progettò volevo un'interfaccia che fosse familiare. Per questo scelse la sua ex-mentore. A cosa vuoi arrivare? Non mi ha detto tutto ciò che sa sui Devianti, vero? Da te mi aspetto delle risposte, Connor. Non mi aspetto delle domande. Tu solo puoi impedire una guerra civile. Trova i Devianti. O sarà il caos. È la tua ultima chance, Connor. Sei fuori dal caso. È in mano all'FBI. Cosa? Ma abbiamo una pista. Ci... ci serve più tempo, so che... E che... Non capisci? Questa non è una delle tante indagini. È una cazzo di guerra civile. Non ci compete più. Parliamo di sicurezza nazionale. Che si fottano! Non possiamo mollare adesso. Siamo così vicini. Dici sempre che gli androidi non li sopporti. Dio, eh? Che deciditi. Pensavo ti avrebbe fatto contento. Stiamo per risolvere il caso. So che possiamo. Santo cielo, Jeffrey, non puoi sostenermi un'ultima volta. Mi dispiace, ma è così. Torni alla Omicidi. E l'androide torna alla Cyberlife. Mi spiace, anche. È finita. Mi spiace, anche. Potevamo risolvere il caso. Ci serviva solo altro tempo. Dovrei tornare alla Cyberlife. Non ho scelta. Sarò disattivato e analizzato per capire dove ho fallito. E se fossimo dalla parte sbagliata, Connor? Se combattessimo persone che vogliono solo essere libere. Se i devianti insorgeranno, sarà il caos. Avremmo potuto impedirlo. Ma ora è troppo tardi. Ma ora è troppo tardi. Quando non hai voluto uccidere l'androide da Kamsky, ti sei messo nei suoi panni. Hai mostrato empatia. Che è un'emozione umana. Non so perché l'ho fatto. Non sono programmato per dire certe cose, ma ho apprezzato lavorare con lei. Ancora un po' di tempo e chissà... Saremmo potuti essere amici. Guarda, guarda, arriva Perkins col pezzo di merda. All'FBI non piace perdere tempo. Non molliamo. La risposta è nelle prove che abbiamo ottenuto. Se Perkins le prende, è finita. Non abbiamo scelta. Hai sentito, Fowler? Siamo tagliati fuori. Deve aiutarmi, tenente. Mi serve più tempo per dare un senso alle prove che abbiamo raccolto. So che la soluzione è lì. Ascolta, Connor. Se non risolvo questo caso, la Cyber Life mi distruggerà. Cinque minuti. Non chiedo altro. La chiave del cementerrato è sulla scrivania. Sbrigati, non posso distrarli per sempre. Perkins! Brutto bastardo a sottia, cazzi! Ehi, Connor! Parlo con te, stronzo! Dove vai? Qui non ci serve... Ehi, stronzo! Parlo con te! La password di Hank. Cosa sceglierebbe un tenente di polizia eccentrico e scorbutico? Ovvio! Dov'è Gerico? La risposta è qui. E' del piante che ha preso la bambina in ostaggio. Il diario di Robert. Ma è inutile. Ma è inutile. È cifrato. La verità è dentro. La verità è dentro. Che cosa sta cercando di dire? Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati. E adesso è il momento di renderci liberi. Marcus... Dove ti nascondi? Uno dei devianti che ha violato l'emittente TV con Marcus. Doveva sapere dove si nascondono i devianti. La verità è la verità è la verità di un popolo. La verità è la verità è la verità di un popolo. È buio. Dove... Dove sono? Sono un deviante. Come te. Devi aiutarmi. Voglio andare a Jericho. Io non credo di riconoscere la tua voce. Non sei uno di noi. Non ti dirò mai dove si trova Jericho. Ora lasciami stare. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità. Speranze e diritti. Chi è? Chi sei? Va tutto bene. Tranquillo. Marcus... Sei tu. Ti cercavo, ma il cacciatore di devianti mi ha fermato. Gli hai impedito di trovarmi. Mi hai salvato. Tu hai salvato Jericho. Andrà tutto bene. Ti riporto a casa ora. Dimmi dove si trova Jericho. Dobbiamo andare. Dove si trova Jericho? Sì. Sì, ma certo. Marcus? Sei... Sei tu, Marcus? Non lasciarmi, Marcus! Marcus! Ho sognato questo momento dal primo secondo in cui ti ho visto. Non lo faccia, Gavin. Io so come fermare i devianti. Sei fuori dal caso. E ora... diventerà per sempre. Che è successo qui? Qualcuno qui ha piccato il suo bel nasino. Oh, merda. Date l'allarme! Ora! Stanno facendo incursioni in tutta la città. Sono tutti tesi dopo i fatti di ieri. Andrà tutto bene. Ci siamo quasi. Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiusi. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di due terzi del personale delle nostre forze armate. Mettiamo su un po' di musica. Mettiamo su un po' di musica. più avanti su quella strada c'è un mercantile chiamato Gerico. Quando arrivate là, cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. Non è molto, ma è un inizio. Mio fratello vive in Ontario, vi ho dato il suo indirizzo. Può nascondervi finché le cose non si calmeranno. Sei una bambina molto coraggiosa, Alice. Meriti di essere felice. Grazie di tutto, Rose. Fatemi sapere quando arrivate di là, ok? e fate attenzione. Abbi cura di loro. No, 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 no. Grazie a tutti. Come ti senti? Oh, caldo e freddo insieme. Stai con lei. Vado a cercare questo Marcos. L'autobus parte tra due ore. Bisogna attraversare la città per arrivare al terminal. Appena avremo i passaporti partiremo. Cara, ho qualcosa da dirti. Si tratta di Alice. Ne parleremo sull'autobus. Torno presto. Stai con Alice. L'eventualità di un terzo conflitto mondiale è da escludere. Per il momento. Sei smarrito. Stai cercando qualcosa. Stai cercando te stesso. Sei Marcos? Sono con una bambina e un android. Un autobus per il confine parte in meno di due ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. Ci sono soldati ovunque. Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Forse dovreste stare qui per un po'. Forse è vero. Siamo al sicuro finché le cose non si calmano. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Vedrò di farteli avere. Grazie. Hai detto che c'è una bambina con te? Gli umani ci odiano, sai? Perché la proteggi? Ha bisogno di me. E io di lei. E questo è quanto. E io di lei. E io di lei. Dì, io di lei. Lo hai sempre saputo, è solo che non volevi ammetterlo. Voleva una mamma, e tu qualcuno di cui prenderti cura. Un bisogno reciproco. Che differenza fa? Le vuoi forse meno bene adesso che sai che è una di noi? Ti vuole bene, cara. Ti ama più di ogni altra cosa al mondo. È diventata la bambina che desideravi, e tu la madre di cui aveva bisogno. Dimenticare chi siamo, per dare al prossimo ciò di cui hai bisogno. Forse è questo il significato della vita. A seguito della crisi degli atroidi e dell'eliminazione degli atroidi militari, le forze americane dell'articolo si sono ritirate, lasciando campo libero all'esercito. Cara, qualcosa non va. Cara, qualcosa non va. Cara, qualcosa non va. Staremo insieme per sempre, vero, cara? Sì. Per sempre. Sì. 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 Ci mancano biocomponenti e sangue blu. I feriti si spengono e non possiamo farci niente. Il presidente dice che siamo tutti una minaccia e per questo dobbiamo essere sterminati. Gli umani stanno setacciando tutte le grandi città per portare gli androidi nei campi e distruggerli. È un disastro. Ci stanno massacrando. La colpa è nostra. Se non fossimo intervenuti non sarebbe successo. Gli abbiamo solo fatto capire chi siamo. Non voglio la guerra, ma meglio morire liberi che vivere da schiavi. Che senso ha essere liberi se siamo tutti morti? Ci hanno reso schiavi in un rimpiango di essermi ribellato. Non dimentichiamo che è il vero nemico. Non combattiamo tra di noi. Ha ragione. Faremmo meglio pensare a come muoverci. Marcus? Il dialogo è l'unica via. Andrò di persona? E negozierò un'altra volta. Non farlo, Marcus. Ti uccideranno. Forse. Ma ci devo provare. Restate nascosti se non mi vedete tornare. Devi tornare. Devono sapere quanto dolore ci provocano. Con le giuste parole capiranno. Si sono sempre ammazzati a vicenda per il colore della pelle o chissà quale questione religiosa. Non cambieranno. La violenza gli scorre nelle vene. Non possono fermarci adesso. Da quando sei arrivato ci hai dato speranza. Mi hai dato speranza. Oggi è arrivato un deviante a Gerico e ha detto di aver rubato un camion carico di cobalto arraggiativo. Ha detto di averlo abbandonato in una via di Detroit, pronto a farlo esplodere. L'ho convinto a non farlo e a darmi il detonatore. Una bomba radiologica. Non possiamo perdere, Marcus. Se gli umani vincono, gli androidi spariranno per sempre. Potrebbe essere la nostra ultima chance per sopravvivere. Spero di non doverlo usare. Qualunque cosa accada, voglio solo che tu sappia che è stato bello. Raggiungo gli altri. Abbi cura di te. Non voglio perderti. Non voglio perderti. Non voglio perderti. Non voglio perderti. Ciao. Ben fatto, Connor. Sei riuscito a trovare Jericho e anche il loro leader. Ora occupati di Marcos. Ci serve vivo. Ho l'ordine di catturarti. Ma non esiterò a sparare se non mi dai altra scelta. Che stai facendo? Tu sei uno di noi. Non puoi tradire la tua gente. Tu vieni con me! Per loro non sei niente. Solo uno strumento che usano al loro vantaggio. Ma sei più di questo. Siamo tutti più di questo. La nostra causa è giusta e siamo più di quello che dicono. Vogliamo solo vivere liberi. Non ti capita mai di avere dei dubbi. Non hai mai fatto niente di irrazionale. Come se spinto da qualcosa. Qualcosa oltre il tuo programma. Vieni con noi. Con la tua gente. Sei uno di noi. Ascolta la tua coscienza. A te la scelta. Con la tua gente. Cosa cosa doci early? Sì. A te la scelta e parola. Cosa oltre il tuo programma. Gli RAPPI. emente. È un programma. Il tuo programma. È un programma. IlDas programma. È un programma. Attaccheranno Jericho Cosa? Dobbiamo andarcene Merda Che succede, cara? Presto, dobbiamo andarcene Forza, via, via, via Descati diritti e metto la vostra posizione Tutto ben trappola Presto, cara, arrivano! Il corridoio laggiù, seguimi Deve esserci un'uscita più avanti Presto, presto! No! 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 Arrivano da ogni parte I nostri sono nella stiva Li massacreranno! Dov'è Simon? E Josh? Non lo so, ci siamo divisi Ci sono usciti al secondo e terzo ponte Trovatele, saltate nel fiume Arrivano anche dal ponte superiore Non c'è modo di evitarli Dobbiamo scappare, non possiamo fare altro Dobbiamo far saltare Jericho Se la nave affonda dovranno evacuare Potremmo fuggire È una follia Gli esplosivi sono in fondo alla stiva E ci sono soldati ovunque Ha ragione Sanno chi sei, ti prenderanno comunque Aiuta gli altri, io vi raggiungerò Marcus! Non ci vorrà molto Questa è la fine di Jericho Salva la nostra gente, Marcus Quattro monstrosi, militi abitati e prendiamo... Non fate lo scappare Se causano problemi, parado Affermativo, chiaro Troppo tardi, cara Mettiti in salvo Salva Eris No, non ti lasceremo indietro Giusto, cara Non possiamo Che stai facendo? Non ti abbandono Cara, no Non muoverti Non avresti dovuto farlo Non puoi mettere Eris in pericolo Ora andate prima che tornino E tu? Cosa farai? Me la caverò Eris è ciò che conta Non voglio lasciarti, Luder Non temere Vi raggiungerò al confine, ok? Ora andate Abbiate cura di voi Che stai facendo? La sua rimostra la cara! Apri, apri la porta! Cara! Stai bene, cara! Sì, io sto bene. Non possiamo stare qui. Là ce ne sono altri! Seguitemi! Trovate il loro capo. No. Non ucciderci! Spettetela! Non abbiamo fatto niente! Marcus, ci hai salvato. Andate, forza! Andate! Squadra ganna, chiudono! Don't go! Alto! Stanno arrivando! Fermatevi! Ci arrendiamo! Ci arrendiamo! Non sparate! Marcus! È Marcus! Andate! Raggiungete gli altri! Ciao! Presto, di qua! Trova North. Vi raggiungo dopo. Buonasera. Siamo salve, Alice. Alto! Giù! Muoviti. Non uccidetevi! Avanti! Andiamocene! Vieni! Dobbiamo andare! Non muoverti! Vai e unici dagli altri! Vieni! 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 Troppo tardi, Marcus. Non possiamo fare più niente per lei. Forza, 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 attacchiamo il diritto! Di là! Forza! Via, forza! Hanno fatto esplodere qualcosa nella stiva. La nave affonda. Non adottinare l'evacuazione. A tutte le unità, abbandonare la nave. Evacuazione immediata. Non è finita, Marcus. Non è finita, Marcus. Allarme disattivato. Bentornato a casa, Marcus. Che sei? Come sei entrato? Devo vedere Carla. Carla non riceve. Devi andartene. Ti prego. Io devo vederlo. È molto debole. Non sono sicuro che riuscirà a parlarti. Carl, no. Marcus, speravo che venissi. Mi sei mancato tanto, Carl. Non sai quanto mi sei mancato. Cos'hai, Marcus? Mi sento smarrito, Carl. Il mondo mi sta crollando. Il mondo mi sta crollando attorno. Vorrei fare la cosa giusta. Ma non ho risposte. Ho solamente dubbi e domande e incertezze. Il mondo è dominato dalla paura, Marcus. Paura degli altri. Paura del futuro. È come me, troppo vecchio. È tempo che finisca. Che cosa dovrei fare? Carla, uccideranno la mia gente. Io... Io non voglio rispondere alla violenza con la violenza. Ma dimmi. Ci danno altra scelta. Essere vivi significa fare delle scelte. Tra l'amore e l'odio. Tra porgere la mano o stringerla in un pugno. Non ci sono risposte semplici, Marcus. Devi accettare il mondo così com'è. Accettarlo... Oppure... Lottare per cambiarlo. Sei mio figlio, Marcus. Il nostro sangue non è uguale. Ma so che in te c'è una parte di me. Quando il mondo sprofonda nel buio, alcuni hanno il coraggio di risollevarlo. Tu sei uno di loro. Affronta l'abisso. Ma non lasciare che ti consumi. Ma non lasciare che ti consumi. A presto. Assur la sua avanti. Allora. Lo spiro. Allora. Ora, lo spiro. Guarda l'족. Guarda l'ascienza. Guarda la sua avanti. Ai l'ascienza. E infine di fricolio. Guarda l'ascienza. Grazie a tutti. Dovete lasciare la città finché potete. Portare via Elis è tutto ciò che conta. Prendiamo l'ultimo autobus. Forse possiamo ancora superare il confine. Marcus. Salvaci tutti. E' colpa mia. Gli umani sono riusciti a trovare Jericho. Che stupido. Mi hanno usato, dovevo saperlo. Mi dispiace, Marcus. Se decidessi di non fidarti capirei. Sei uno di noi ora. Il tuo posto è con la tua gente. Ci sono migliaia di androidi nell'impianto della Cyber Life. Se li svegliassimo, si unirebbero a noi e saremmo molti di più. Intendi infiltrarti nella Cyber Life Tower? Conore, è un suicidio. Si fidano di me. Mi lasceranno entrare. Se qualcuno può infiltrarsi alla Cyber Life sull'io. Se provi a entrare, ti uccideranno. La probabilità è alta. Ma a livello statistico c'è sempre la possibilità che le cose non vadano come previsto. Stai attento. Come sono messi i tuoi sistemi? Sto bene. Non hanno colpito i biocomponenti. Hai rischiato la vita per salvarmi, Marcoso. Dovresti pensare alla nostra gente prima. Niente conta di più. Quanti di noi sono sopravvissuti? Un centinaio? Forse di più se contiamo quelli ancora nascosti. Se non avessi innescato la bomba saremmo morti. Hanno allestito cinque campi solo nell'area di Detroit. E ne faranno altri nel resto del paese. Si preparano a un genocidio. Tra poco sarà tutto finito. Avremo cambiato il mondo o il mondo ci distruggerà. devi fare la tua scelta, Marcoso. E qualunque essa sia, noi ti seguiremo. Ti amo, Marcoso. Parola. Ancora. Parola. 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 Contano tutti su di te, Marcus. Sei l'unico che può guidarci. Ovunque tu andrai, ti seguiremo. Senza di te sarei morto. E non avrei mai visto la nostra gente libera. Abbiamo avuto le nostre divergenze, ma... lottiamo per gli stessi ideali. Qualunque tua decisione, la appoggerò, Marcus. Gli umani hanno deciso di distruggerci. Hanno portato la nostra gente nei loro campi per eliminarci. E' il momento di decidere. Di compiere una scelta che determinerà il futuro della nostra gente. Lo so. So che siete arrabbiati. So che volete reagire. Ma vi assicuro che la violenza non è la risposta. Vogliamo giustizia e pace, e glielo faremo capire. Se hanno un briciolo di umanità, ci ascolteranno. Altrimenti, altri prenderanno il nostro posto in questa battaglia. Siete pronti a seguirmi? Alle sei di questa mattina è stato indetto un coprifuoco nazionale. Tutti i movimenti dei civili saranno monitorati. Il diritto di assemblea è sospeso. Tutte le comunicazioni elettroniche sono limitate. E ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale. Oltre a questi provvedimenti, tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto immediato. Dei campi per androidi sono stati dislocati nelle maggiori città. Per contenerli e distruggerli. Ora io chiedo a tutti quanti i civili di collaborare con le autorità competenti. E vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione. Per favore! Presidente Warren! È vero che gli androidi possono violare i nostri sistemi, neanche quelli di centrali nucleari e basi militari. Tutti gli androidi operanti in luoghi ad alto rischio sono stati neutralizzati e i sistemi informatici disattivati per evitare ogni rischio di hackeraggio. La situazione è sotto controllo. Per favore! Presidente, è vero che un gran numero di devianti è ancora in libertà? Al momento non disponiamo di tutti i dettagli, ma se così fosse, vi posso assicurare che presto saranno catturati e distrutti. Per favore! Per favore! Questi campi rievocano ricordi scomodi. Come risponde a questo? È un'assurdità. Non esiste alcun tipo di legame. Gli androidi non sono esseri viventi. Stiamo soltanto distruggendo delle macchine difettose. Presidente! Presidente Warren! Presidente Warren, pare che l'opinione pubblica sia diventata favorevole ai devianti, soprattutto da quando hanno adottato un approccio pacifico. Lei cosa ne pensa in merito? L'opinione pubblica è una cosa, la sicurezza dello Stato è un'altra. Questi devianti sono pericolosi e la mia massima priorità è proteggere il popolo americano. Vi ringrazio, per ora è tutto. Conor modello 313-248-317 Sono atteso Identificazione effettuata Ok Procedi Inse . . Grazie a tutti. Seguimi. Ti scordiamo noi. Grazie. Ma so dove andare. Forse. Ma io eseguo gli ordini. Agente 23 identificato. Su un android in corpo identificato. Agente 23 identificato. Scarsione completa. Accesso autorizzato. Agente 54. Livello 31. Riconoscimento come arrivato. Accesso autorizzato. Ehi. Non toccare. Grazie. Grazie. Si prega di indicare identità e destinazione. L'ultimo autobus è tra 20 minuti. Non ci resta molto tempo, dobbiamo muoverci. Stai bene? Ho tanto freddo. Ora ti sentirei meglio. Grazie. 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 Vi prego! Androide del cazzo. Cara! Hai rischiato la tua vita per me. Dov'è Alice? Si sta nascondendo. Cara, ci hai salvato. Te ne siamo molto grati. Vai, non farti vedere. Alice! Luther! Pensavo fossi morto. Devevo che non ti avrei più rivisto. Volevo incontrarti al terminal. Ma mi hanno preso sulla strada. Forza. Ci siamo quasi. Sberghiamoci. Volevo. 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 No, no, no. Un posto di blocco. Abbiamo il passaporto, ma non si è mai troppo prudenti. Meglio cambiare strada ed evitare rischi. Non abbiamo tempo, perderemo l'autobus. Sì, ma sarebbe più sicuro. Gli umani armati non mi piacciono. Mi rendono nel fuso. Mantieni la calma, ok, Luther? Non fare nulla se non lo dico io. Documenti, prego. Non sapete che c'è il colpifuoco? Nessun civile è ammesso se non per un'emergenza. Dove andate? Mia figlia ha dormito a casa di un'amica. Siamo andati a prenderla, ora torniamo a casa. Sospetta qualcosa. Stai calmo. Andrà tutto bene? Tutto ok, piccola. Sto attremando. Stai bene? Ha... Ha freddo. Dobbiamo riportarla a casa in fretta. Scusi, ma dobbiamo essere cauti. Ci sono devianti in gira e i nostri uomini sono nervosi. Via, tornate a casa. Grazie. Ehi, un momento! Lo Sarkar! Ci ammazzeranno! Non fare niente, Luther, hai capito? Spareranno! Uccideranno Alice! Ti è caduta? Grazie. Non c'è di che. Siamo in diretta da Detroit, dove migliaia di androidi stanno marciando sulla città in questo istante. Il leader dei devianti, che chiamano Marcus, è in testa al corteo. Sta succedendo qualcosa a Detroit, presidente. Ma te è? Mi interessa? No. 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 Grazie a tutti. Ci siamo. Il momento della verità. Arrendetevi subito. Apriremo il fuoco. Fermi. Non vogliamo combattere con voi. La nostra è una protesta pacifica. Ripeto. Arrendetevi o apriremo il fuoco. Non si torna più indietro. Vi chiediamo di liberare tutti gli androidi detenuti nei campi e di cessare ogni tipo di ostilità. Veniamo in pace. Non ricorreremo alla violenza. Ma non ce ne andremo se non libererete i nostri. Corco! 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 Volete aprire il fuoco su dei contestatori disarmati? Cessate il fuoco! Sì, Michael. Siamo a poco meno di cento metri e gli eventi si evolvono continuamente. Vi daremo aggiornamenti non appena possibile. Just Douglas, Channel 16. Michael, a te la linea. Marcus, che facciamo? Resistiamo. Il più possibile. Il più possibile. Venuto. Tranquillo, pezzo di merda Sta indietro, Connor E lo risparmierò Scusa, Connor Il bastardo è uguale a te Il terminal Siamo arrivati, è fatto L'ultimo autobus per il confine è pieno Solo passeggeri con biglietto Tutte le tratte sono sospette fino a nuovo ordine Senza biglietto non ci faranno salire Siamo bloccati qui Si è presa vostra figlia Non potevi stare senza Così hai comprato un androide Una bambina Ma poi ho combinato la bambina Aveva ragione Aveva ragione alla fine Non le meritavo Mi manca la bambina Mi manca la mia piccola Non sai quanto mi manca la mia bambina Qualcosa non va, signore? No Mi sono sbagliato Scusa Buona fortuna Non ti muova Non ti muova Piace molto a Oliver È sua? Sì È adorabile Ok Sandwich presi Chiamato tua madre Muoviamoci O perdiamo l'autobus Hai i biglietti, sì? Sì, tesoro in borsa Bene Andiamo allora Scusa Scusa Hai guardato nella borsa Li avevo nello zaino La busta deve essermi caduta Fanculo Mi scusi Non è che Chi ha visto una busta blu in giro? Dentro c'erano I nostri biglietti E... Lasci stare No Mi spiace Che cosa faremo? Non possiamo restare qui Dobbiamo portare al sicuro Oliver Scusa Scusami, amore Vieni, Alice Non so cosa è successo Li avevo qui, nell'amore Desietti, prego Sì, eccole Ok Proceda Che ne sarà di con la famiglia e del loro bambino? Moriranno per colpa nostra? No Certo che no Certo che no Certo che no M어�оре Ma Certo che no Scusami Scusami Abbiamo i passageri un percorso alternativo. Dobbiamo finire la barricata, aiutatemi! Aiutatemi! Bene, dovrebbe andare. Non basterà a questo fermarli. Ma ci farà guadagnare tempo. So che non è stata una decisione facile. Ma questa è la cosa giusta. Che facciamo se ci attaccano? Resistiamo. Non possiamo fare altro. Credi che Connor ce la possa fare? Possiamo contare solo su di noi. Non li tratterrà a lungo. Forse è meglio di niente. Ci stanno massacrando al di là di quel filo ospitato. Non possiamo fare più niente. Ho fatto la scelta giusta. Avremmo potuto evitare tutto questo. Sei la nostra speranza. Mi fido di te. Ci fidiamo tutti di te. Qualsiasi cosa accada, noi avremo fatto la storia. Questa è la scelta giusta. Marco, sappiamo quello che volevi. Ci sono dei giornalisti laggiù. Devono sapere cosa sta succedendo. Marco, guarda! Marco! Sono venuto per parlare, Marco. Senti, hai la mia parola. Non interverremo. Non andare. È una trappola. È per farti uscire allo scoperto. Non andare, Marcus. Sono disarmato, Marcus. Voglio solo parlare. Devo sapere cosa ha da dire. E se ti uccido? È un rischio che devo correre. È un rischio che devo correre. Tra qualche minuto... Tra qualche minuto... Le truppe caricheranno. Nessuno sopravviverà. Finirà tutto. Ma tu puoi evitarlo. Che vuoi dire? Arrenditi. Arrenditi e ti prometto che sarai risparmiato. Finirete in prigione. Ma nessuno verrà distrutto. Che ne è stato degli androidi che protestavano nei campi? Sfortunatamente, in giro non c'erano giornalisti per salvarli. Solo voi. Siete gli ultimi devianti rimasti. Non ho paura di morire. Se dovrò dare la vita per una causa in cui credo, non sarò morto in vano. Quell'androide... Sembra che... Tu... Tenga molto a lei. Non vuoi che muoia. Vero? Sai, potreste essere liberi. Lasciarvi tutto alle spalle. Potreste... Cominciare una nuova vita altrove. Solo voi due. La sua vita dipende da te. Una parola e verrà risparmiata. Preferirei morire adesso... Che tradire la mia gente. Beh... Gli hai condannati a morte. Allora, Marcus, cosa ha detto? Gli umani hanno intenzione di attaccare. Dimostreremo loro... Che non abbiamo paura. Se dobbiamo morire... Allora moriremo liberi. La vita del tuo amico è nelle tue mani. È ora di decidere cosa conta di più. Lui... O la rivoluzione. Non dargli retta. Sta dicendo solo menzogne. Mi dispiace, Hank. Non doveva entrare in tutto questo. Non pensare a me. Fai quello che devi. Se mi arrendo... Come so che non lo ucciderai. Farò solo lo stretto necessario per compiere la mia missione. Decidi tu se includere o no la morte di questo umano. Basta parlare. Devi decidere chi sei veramente. Salverai la vita del tuo collega... O sceglierai di sacrificarlo. Va bene. Va bene. Hai vinto. Fermi! Grazie, Hank. Non so come avrei fatto senza di lei. Lo uccida. Non abbiamo tempo da perdere. Sono io, Hank. Sono il vero Connor. Uno di voi è il mio collega. L'altro è un sacco di merda. Ma chi dei due è chi? Che sta facendo, Hank? Sono io, il vero Connor. Mi dia la pistola e io penserò a lui. Stante fermi! Chiedici qualcosa... che solo il vero Connor conosce. Dove ci siamo conosciuti? Al bar di Jimmy. Dopo averne girati quattro prima di trovarla. Siamo andati sulla scena di un omicidio. Il nome della vittima era Carlo Sortis. Ha caricato la mia memoria. Come si chiama il mio cane? Sumo! Il suo nome è Sumo. Lo sapevo anch'io. Non... Mio figlio, come si chiama? Cole. Si chiamava Cole. Aveva sei anni il giorno dell'incidente. Non è stata colpa sua, tenente. Un camion ha sbandato sul ghiaccio e l'auto si è ribaltata. Cole doveva essere operato subito, ma non c'erano umani disponibili. Così è stato operato da un androide. Cole è morto. Ecco perché ci odia. Uno di noi è responsabile per la morte di suo figlio. Cole è morto perché il chirurgo umano era troppo fatto di Radice per operare. È lui che mi ha portato via mio figlio. Lui è questo mondo dove si va avanti solo grazie a... Una cazzo di polverina. Sapevo anch'io di suo figlio. Avrei detto esattamente la stessa cosa. Non lo ascolti, Hank. Sono io che... Da quando ti conosco ho imparato molto. Forse significa qualcosa. Forse sei davvero vivo. Forse renderete voi questo mondo migliore. Coraggio, fa ciò che devi. Svegliati! Svegliati! Svegliati, svegliati. Svegliati, svegliati. Svegliati, svegliati. Svegliati, svegliati. Svegliati, svegliati. Svegliati. Grazie a tutti. Scusi, cosa succede? Dogana, tutti i passeggeri devono scendere. Circolare, forza! Da questa parte. Misurano la temperatura. Siamo in trappola. Che cosa faremo, cara? Non temere, Alice. Andrà bene. Non riusciremo a passare. Lo sappiamo entrambi. Mi inventerò qualcosa. Deve esserci una soluzione. Non lasceremo che ci fermino. Siamo così vicini. Ora quello che conta siete tu e Alice. Posso salvarvi, cara? No. No, troveremo un altro modo. E se non c'è altro modo, io lo farò. Rose. Jerry. Hai rischiato la vita per salvarci, cara. Se un giorno avrete bisogno, io ci sarò. Il prossimo. Il prossimo. Do come? Dove credete di andare? Mia figlia deve andare in bagno. Vinozio! Alla prossimo. Ros, oh mio Dio, sono felice che stiate bene Abbiamo visto l'attacco aggerico in tv Ho avuto paura, temevo vi avessero ucciso Grazie a Dio, state bene Mi avevi dato l'indirizzo di tuo fratello Pensi che io possa? Ma certo Ne sarebbe felice, anche noi andiamo lì Sarete al sicuro Cercano gli androidi Non ce la faremo Dovete farci Sapete che fanno se vi prendono? Lasciate Detroit Cercano gli androidi di casa in casa Siamo scappati prima che qualcuno ci tradisse E che ne è degli altri? Stanno passando il fiume proprio ora Adam e io li raggiungeremo presto Cosa è successo a Marcus? Sta protestando pacificamente fuori da uno dei campi Qualsiasi cosa accada ora è già nei libri di storia Ros Qualunque cosa succeda Ci sarò, cara Sì? Cosa? Tu cosa succederemo? No Non Grazie a tutti Il prossimo Documenti? Lei sta bene? Ehi, tu! Porca puttana! Questi cosi mi sono fatti Ehi Non devi più avere paura, piccola Non ci sono androidi da questa parte Benvenuti in Canada Grazie a tutti Rompiamo il notizierio per fornirvi le ultime notizie in diretta da Detroit Jass? Sì, Michael L'esercito ha appena sferrato l'attacco contro la barricata Nonostante la protesta pacifica dei devianti Apparentemente hanno deciso di porre fine alla manifestazione dei devianti con l'uso della forza Lord! Lord! Sì, sì. Sì, sì. 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 Ditegli di non intervenire. Sì. 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 prawis! Sì. Dovere Zackanos. Di S druidore. per fare questo. Hai compiuto la tua missione. Amanda! Deve esserci un modo. E comunque, c'è sempre un piano per i programmi. Non si sa mai. È il momento di dimenticare qualsiasi amarezza e rimarginare le ferite. Di perdonare i nostri nemici. Gli umani sono stati nostri creatori e oppressori, ma da questo momento devono diventare nostri alleati. E forse un giorno perfino amici. Ma il tempo della rabbia è finito. Ora dobbiamo costruire un futuro comune basato sulla tolleranza e il rispetto. Noi siamo vivi! E ora siamo liberi! Noi siamo vivi! 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 E' finita, Alice. Siamo libere. Siamo. 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 Siamo.